Ciao amici di YouTube, questa è una nuova serie nella quale cercherò di programmare un gioco su Unreal Engine da zero, da zero, non ho mai aperto neanche il coso, l'ho aperto giusto per vedere se reggeva il computer e sembrerebbe di sì, sarà una cosa sperimentale, seguirò il tutorial di Unreal Sensei che vi lascio in descrizione, True King, True King e niente, divertiamoci insieme, impareremo insieme come fare questo gioco, grazie Yama per i due mesi. Ora, la primissima cosa che facciamo appunto è scaricare dalla link in descrizione del tipo, ma ve lo metterò direttamente anche su questo video, i contenuti extra, i contenuti extra, ok? Ok? Il gioco non verrà pubblicato perché farà schifo al cazzo, però tant'è. La primissima cosa che dobbiamo fare è installare ovviamente l'engine e poi andiamo qua nella mia cartellina o My Projects che ho già preparato e il tutorial iniziava con il template del First Person Shooter, che però è cambiato nel corso del tempo perché il tutorial era vecchio, quindi fortunatamente il tipo l'ha rimesso qua dentro in External Assets, che ho chiamato io così la cartella, Target Game. Quindi prendiamo quello originale, se invece voi fate partire l'engine da qui, se voi fate partire l'engine da qui, adesso qua con OBS non so come si comporterà, quindi è tutto sperimentale. Ok? Per il momento mi sembra... Allora, se scrivete F e non c'è F, vi timeouto, ok? Lorenzo, grazie per il Prime. Beh, beh, diciamo che per il momento sta funzionando tutto splendidamente. Piccolo. Ok. Inizia bene. Bene. Engo, grazie per il Prime. Ok, qua si lamenta che non c'ho i driver aggiornati della scheda video, ma io non li aggiorno perché quei bastardi c'hanno l'obsolescenza programmata, quindi io non aggiorno niente. Eccoci, allora, se voi iniziate da qui e scegliete Third Person, vi esce questa roba qua, ok? Però, 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 il problema è che il Third Person che c'è qui è diverso rispetto a quello che utilizza il... È diverso da quello che utilizza il Bombers, il Bombers. Quindi, noi non usiamo questo qua, ma usiamo direttamente questo, ok? Che è quello vecchio che c'era durante la beta. Bene. Ronda, grazie per i sei mesi. Stai buono, eh, tu. Perfetto. Quindi, lo apriamo da qua ed entriamo nel nostro, eh, eccolo qua che si lamenta sempre dei driver, vabbè, prima o poi li aggiornerò, ma non credo proprio. Oh. Software Game Developers. Sì, se un moderatore... Eccoci qua, eccoci qua. Se un moderatore può cambiarlo. Allora, questo qui è il software che andremo ad utilizzare. Siamo nel template di First Person, io non ho mai... Ok, ok, il movimento sembra abbastanza liscio e semplice. Tenendo premuto il mouse sinistro, possiamo muoverci con WASD. Questi sono i nostri begli oggettini. Da quello che ho visto nei tutorial, così lo trascino, così lo alzo, così lo sdrago di qua. Sdrogo corse. Con questi qua posso scalarlo. Ok, non è forse così semplice. Non vi preoccupate. Allora, R. Ok, con E. Con R e ruota. Ah no, con E e ruota, scusate. Con E... Ah, eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Perfetto. Tutto molto semplice. Tutto molto semplice. Come vedete, super facile. Super facile. Niente, quindi questo sarà il luogo nel quale noi andremo a progettare il nostro primo First Person Shooter. Ok? Ci sono un botto di cose nell'interfaccia, ma le cose più importanti... Oh merda, non c'è il tasto Create. Ah, è questo. Sì. Perché tutte le cose che sono diverse dal tutorial, ovviamente io ho un po' paura, ma vabbè. Allora, la cosa più importante che dobbiamo dire è il Content Drawer, che è questo. Questo contiene tutte le risorse che a noi serviranno, ok? Quindi qua, quando andremo ad utilizzarlo, ve lo spiegherò. Possiamo aprirne pure più di uno, in realtà. Credo di poterlo chiudere e poi riaprire da qua. Perfetto. Per il resto, il movimento non è intuitivissimo, bisogna farci l'abitudine. Si tiene premuto col sinistro e poi WASD per muoversi. E per quanto riguarda questi oggetti che si chiamano Mesh, è possibile ruotarli con E, con R si può scalare. Quindi così, così, oppure quello centrale, credo, per farlo esatto. Coerentemente. Questo è per muoverlo, questa modalità qua che è W. E con Q, invece, abbiamo il semplice movimento all'interno, ok? Inoltre, quando si scala o si ruota o si sposta, si possono fissare le gradazioni, eccetera. Questa è la camera speed che per il momento lascio di default. E siamo abbastanza nel chill. Ci sono qua le varie modalità con le quali si può vedere la mappa. Ok, questa roba è un po' complicata da fare. Facciamo che non la facciamo. Teniamo il perspective. Ci sono le luci. Ci sono, insomma... Ci sono tante cose. Il programma è veramente molto complicato. Questo è il gioco di base. Porca troia. Questo è il gioco di base. Che, come vedete, ha già un po' di cose. Ha addirittura già la fisica degli oggetti. A quanto pare. Ma noi andremo praticamente a rifarlo da zero, ok? O meglio, terremo alcune cose, ma... Ma adesso... Adesso vedete, ok? Bene. Iniziamo, direi. E la primissima cosa che dobbiamo fare... Oh, fuck. Minchia, questa cosa è veramente... Oh, shit. Shit. Questa cosa non è facile da... Come faccio a... Angolarmi? Ah, così. Ok. Quindi se faccio tipo così... Ok, ok. Eh, chat. Dovete capire che qua sono veramente... Non ho mai... Non l'ho mai aperto. Mai aperto. Comunque, ehm... La primissima cosa... Elliot, grazie per i quattro. Nicola, grazie per i tre. Ronda, grazie per i sei. La primissima cosa... Non ho finito, non ho finito. Adesso andiamo a fare delle cose interessanti. La primissima cosa che dobbiamo fare è aprire un altro progetto... Per andarci a scammare le risorse relative al target. Quindi, come si fa? Apriamo... Lo apriamo da qua. Diciamo che vogliamo la versione 5. Ovviamente la solita notizia. No, no, no. A parte gli scherzi. Adesso... Perché l'idea è che in questo tutorial andremo a progettare... Ecco... Ok. Andremo a progettare il... Piccolo lag. Lo so, lo so. Fa così. Non so perché... Forse perché nel momento in cui apro qualcosa cerca di scaricare. Non lo so. Comunque, non vi preoccupate. Io lo vedo da qua sotto e sto zitto per un istante. In caso refreshate. Lo so, e non è la cosa migliore, ma... Allora, dal content drawer di questo progetto... Prendiamo target, credo. Sì, esatto. Questa cartella è la migriamo. Ok? Grazie mille Lomb. Grazie Lomb per il Prime. Per migrarlo, facciamo tasto destro. Quindi abbiamo aperto un altro progetto. Ok? Sono qua di fianco. Vedete? Sono due progetti diversi. Siamo qua. Facciamo content drawer migrate. Migrate. Ok? Ma prima ancora, in realtà, ci andiamo a salvare la cartella del nostro altro progetto. Di quello dove vogliamo andare a migrare, che è questa qua, content. Quindi copiamo questa roba qua. Veniamo di qua. Tasto destro. Migrate. Sì, voglio migrare tutto. E lo schiaffiamo qua dentro. E poi, selezione cartella. Boom! Content Migrated. Content Migrated. Sperando che Salvini non se la prenda. Quindi, in teoria, adesso, qua sotto, in questo content drawer, eccolo qua. Target. Abbiamo migrato le cose. Quindi possiamo chiudere questo altro progetto. E abbiamo fatto uno di 200 punti che ho scritti. Ok. Allora, la prima cosa che vorrei fare con voi è parlare di blueprints. Ok? La prima cosa che voglio fare è parlare... Ah no? Ok, ok. Bisogna solo abituarsi un pochettino. No chat. La prima... Ah, è meglio tasto destro, mi sa. Perché così posso... Vedete? Sì. Allora, la primissima cosa che vogliamo... Dobbiamo fare è parlare di blueprint. Allora. Il... La logica dei giochi che andremo a fare e in generale di tutti i giochi si fa attraverso le blueprint. I blueprint oppure tramite C++ che è un linguaggio di programmazione. I blueprint... Sono un modo per programmare per l'appunto il gioco. Ok? Quindi testiamo subito. Testiamole subito. Ok? Come si fa? Per prima cosa... Testare blueprint con un tasto dalla blueprint del carattere. Ah, ok. Perfetto. Allora, selezioniamo questo signore qua. 18 e 36. Hai capito che Twitch ti fa campare più dell'Uni? No. Smetto sempre verso 18 e mezza. Ok, allora. Già c'ho un po' di difficoltà. Blueprints. First... Ok. Allora, le blueprint sono un tipo di file che ci sono qua dentro. Dentro Unreal Engine. E... Ce ne sono di diversi tipi. Ci sono blueprints per i widget, come vedremo più tardi. Ci sono blueprints per le mesh. Per il gio... La game mode totale. Ce ne sono di diversi tipi. Ok? Sono quelle con la barretta blu. Quindi, per primissimo test, facciamo doppio clic e apriamo la blueprint. Eccoci qua. Del nostro personaggio. Ok? Del nostro personaggio. Il personaggio è questo signore qua, che spara. Ok? Quindi, grazie. Puoi togliere questo qua. Grazie mille. Questa è la schermata di blueprint. Lo riconoscete perché c'è scritto blueprint. Grazie Rauls per i 15. Grazie dottor Freppep per i 16. La blueprint è questa signora qua. E qui dentro possiamo fare cose. Ok? Le blueprint sono costituite... Grazie mille Balistra per i 6 mesi. Le blueprint sono costituite da... Da eventi. Ok? E gli eventi si susseguono in una lista di nodi. Alcuni nodi. Madonna mia. Qua straflescia quando sposto troppo. Quindi cercherò di non farlo. Comunque, gli eventi sono rossi. I nodi generici, diciamo, sono blu. I nodi personalizzati che potete creare voi sono viola. Le funzioni sono verdi. Le variabili sono di vari colori, credo. Blu, credo. Anche quelle. Alcune cosa... Comunque, qua c'è già una roba super complicata che non ci interessa. Va bene. E il funzionamento, come vi dicevo, è piuttosto intuitivo. È un tipo di programmazione che si chiama visuale. Ok? Grazie Raulo per il Prime. Un tipo di programmazione che si chiama visuale. Cioè, anziché scrivere direttamente del codice, noi utilizziamo dei nodi collegati fra di loro per ottenere quello che ci interessa. Ok? La primissima cosa che possiamo fare è cercare di creare un evento personale e vedere se riusciamo a stampare un messaggio a schermo. Ok? Si chiama visual scripting. Perfetto. Bene. Allora, facendo tasto destro qui dentro, possiamo scegliere uno di questi pochissimi... Poi dentro ce ne sono tanti, eh. Questi trilioni di nodi. Ok? Considerate che qua dentro potete farci tutto quello che si può fare in un videogioco. Quindi capite bene che è bello complicato. Ma noi ci atterremo a delle cose semplici all'inizio. Ok? Keyboard event. E F. Quindi mettiamo questo qua. Ok? Questo è un evento di tastiera che è la pressione del tasto F. Ok? Quando viene premuto il tasto F, questo evento fire, viene fatto partire. Ok? Come vedete, a questo evento possiamo collegare dei pisellini. In particolare a quando è premuto o quando è released. E poi c'è questo key che non so che cosa sia, quindi non mi interessa. Ora, non ci resta che a collegargli un print string. Spero. Sì. Un print string. Lo mettiamo qua. Ok? È una funzione anche questa, ma non è una funzione come queste qua, blu. Sono diverse. Non so esattamente che cosa cambi. Forse sono le built-in. Oh, oh. Le built-in. Comunque diciamo che quando viene premuto F, ok? In sequenza i nodi vengono eseguiti. Va bene? E la stringa che vogliamo scrivere è naturalmente hello world. Come in tutti i programmi decenti. Boh, questa è la nostra blu-blu-blu-blu-blu-blu-brinz. Blu-brinz. Verdi e blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-brinz. Sì, se c'è la F è una funzione, ma cambierà qualcosa. Ora, l'idea è che quando viene premuto, facciamo questo e facciamo anche, tanto per farvi vedere, che quando viene released, se faccio così mi dà direttamente un nodo, print string. Questa volta scriviamo Ciao F Ok? Bene Non resta che compilare Salvare Bisogna premere entrambi Ma Save on compile Always Quindi così quando compiliamo salve in automatico Veniamo di qua e testiamo il gioco Dovrebbe già funzionare Questo arca puttana Questo lo sparo Se premo F Ha! Lasso in alto Allora adesso premo F e lo tengo premuto Quando lo rilascio Ciao F F Ciao F Tadà! Abbiamo fatto la nostra prima funzione Il nostro primo evento E la nostra prima risposta all'interno Della nostra blueprint Ok? Let's go! Everything is working well Ora domanda Fico Ma possiamo fare delle cose belle? Anche utili Non lo so Sì Cercheremo di farle Sempre Grazie Pips Gioco sostanzialmente pronto Sì Questa qui è la cosa base Il funzionamento base Che utilizzeremo per programmare Tutte le funzionalità del giochino Che stiamo andando a fare La prima cosa che dobbiamo fare Quindi Questo non ci serve più A una cippa di minchia Veniamo qua Dove io mi so orientare Naturalmente benissimo E Per prima cosa Control spazio Andiamo nel nostro target E Introduciamo delle altre cose Ok? Ok? Ehm Oh merda Allora Static mesh Ok Allora Per prima cosa Creiamo una Non me lo sono scritto esattamente Cosa devo fare Una actor blueprint 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 Ah è questo e questo Meno male Ok Creiamo una blueprint Per un actor Poi lo vediamo Pinolo quello Grazie per i 100 bit Allora Iniziamo con il creare Il nostro target Che è la nostra cosa Che vogliamo andare a sparare Ok? A cui vogliamo andare a sparare Vi suggerisco Di Creare le vostre cose Da qualche parte Utile Eh Non lo so Vabbè Non so benissimo Cosa Dove mettere le cose Per il momento Le cago a caso E poi in caso Possiamo spostarle Comunque Facciamo una Blueprint Class Ed è un actor Un actor è qualcosa Che sta nel mondo Col quale si può interagire Ok? Quindi decidiamo Di mettere un actor La chiamiamo BP Underscore Target Non dovete chiamarla BP necessariamente Però È utile Dare un nome Parlante Alle vostre variabili Alle vostri file BP sta per Blueprint Ok? Eh Bene Adesso La La apriamo Ok? E come vedete Non è niente È una merda Non è nulla Questa mesh Scusate Questa Blueprint C'è l'event graph Come prima Però Qua dentro Non c'è nulla Non ha nessuna forma Ok? Potremmo metterci Un quadrato Un cazzo Quello che vi pare Noi Ci mettiamo Il Target Mesh Che era già Nei file Ok? Allora Questo qua Fa parte Tutto di una cosa Più complicata Che non vedremo qui Ma la vedremo Nel secondo episodio Dove parleremo Di landscape E materials In sostanza Comunque Una mesh Una static mesh E un oggetto 3D Ok? Gli oggetti 3D Al loro interno Sono fatti Da dei materiali Da dei materials E qui Vediamo che c'è Il target material Il quale è costituito Da questi 3 cosi Che sono Il colore di base La normal Che serve per fare I rilievi E la roughness Che non mi ricordo Che cazzo fa Ma comunque Ne parleremo Un'altra volta Ok? Noi semplicemente La mesh Ce l'abbiamo già fatta Dall'amico sensei Lo trasciniamo qua dentro Ed eccola qua Voilà Voilà Compiliamo Perfetto Adesso abbiamo Il nostro target E poi Ora che abbiamo Creato questo Non resta che Venire di qua Content drawer E cagare dentro In teoria Stai facendo il gioco Dell'università di Torino? Si chiamerà Spariamo al ricercatore No Sarebbe un gioco americano Real Fortezza Eccoci qua Abbiamo il nostro Primo target Abbiamo il nostro Primo target Che Se vogliamo Muovere Perché fa cagare Come l'abbiamo messo E si fa così Poi E per ruotare E voilà Ecco qua Gioco già visto Ah si si Perché il primo gioco Che devo fare Ovviamente è un gioco Innovativo E per testare Perfetto Questo è il nostro Il nostro target Vediamo come si comporta Beh Per il momento Non sembra molto interattivo It's something Ok Non c'è fisica Non c'è niente Ma Non vi preoccupate Perché man mano Andremo ad aggiungergli Tutte le cose Di cui abbiamo bisogno La prima cosa Che dobbiamo fare È naturalmente Raccogliere Un evento Che lo riguarda Ok L'evento Trattandosi di un target L'evento più prezioso Che abbiamo È quello di Component Hit Study time Grazie mille per l'host Grazie cara Grazie cara Benvenuti study time mini Hi We are developing a game For the first time ever I've never done it I'm following a tutorial Quindi La cosa che dobbiamo fare È È aggiungere degli eventi Ora in linea teoria Gli eventi dovrebbero essere qua Se mi ricordo bene All Physics Non c'è Ma non ci interessa Perché noi lo facciamo direttamente Dalla blueprint So Andiamo qua nella blueprint Del target Mi raccomando E non quella del Del character Del target Grabbiamo Questa roba qua E Aggiungiamo Un evento L'evento che ci interessa Si chiama On component Hit Fuck Cioè Ok ok Qua siamo già in una zona Complicata Ok ok No ansia No ansia Potrà succedere Può essere Può succedere Event Event Hit Sarà questo Potrebbe essere cambiato Si 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 Direi che è lui Con ancora più campi Di prima Ok Ok è questo E questo Grazie per chi me l'ha suggerito Grazie demolitore Per i due mesi Considerate che il tutorial È di un anno fa Quindi Ed era nella versione pre alfa Quindi potrebbero essere cambiate Delle cose Ok Mettilo in italiano No Perché i tutorial Già Non ce ne sono in italiano E i pochi che ci sono Sono in inglese Allora La La questione focale È che Dobbiamo Collegare Un evento A questo Ok Come Per testare Per testare Il component Scusate L'evento A questo evento Di Hit Mettiamo Una Print string E vediamo se funziona Hit Ok Vediamo se funziona Chat qua inizia ad essere meno banale Cioè non vi stavo prendendo in giro È una cosa complicata questa Quindi vediamo Vediamo se funziona Cerchiamo di capire insieme Allora Perfetto Funziona Vedete In alto In alto Mi dice hit Molto bene Una cosa tra l'altro Che mi sta Già dando noia E che Ogni volta che Inizia il gioco Io devo mirare Questo target E dato che dovremmo farlo Un po' di volte Converrebbe Grabbare Questo E Spostarlo Qua Davanti Al Perfetto Sono molto Forte A fare questa cosa Ah Ah Ok Vediamo se così Mi fa molto piacere Questo dovrebbe essere L'inizio del gioco Ma per qualche motivo Fa così Non so perché E Vabbè Ah è la cam Devo girare questa cam qua Forse Vabbè Spostiamo questo signore qua Proviamo a spostare Questo signore qua Sì Questo qua Dovrebbe funzionare Adesso Ah Ah Bello Bello Ok Ci sta Ci sta Ci sta E la cosa della cam Non la sapevo Ok Perfetto Qua iniziamo giusti Così Quindi come vedete Inchè il volume è veramente troppo alto Come vedete Colpisce Ok Primo In teoria ho spostato lo start of the game Che adesso mi dice anche bad size Ma fatti i cazzi tuoi Perfetto Oh Adesso a questo evento di hit Dobbiamo fare un po' di lavori Perché Vi faccio vedere una cosettina Non piacevolissima Se Mi ci schianto io Se mi ci schianto io Mi dice hit Perché ovviamente Qualunque cosa lo colpisca Questo registra l'evento Ok Quindi la prima cosa che dobbiamo fare È che Lather Spero Perché è un po' diverso l'evento Rispetto Lather actor Sì Lather Deve essere Soltanto di tipo progettile Daniele grazie per l'host Navas grazie per i 14 Lather Deve essere Necessariamente di tipo progettile Quindi Facciamo Cast To First person Projectile Ok E solo a quel punto Allora con alt Credo si possa cancellare la linea Wow Incredibile Soltanto se Soltanto se È un first person project Allora per chi programma La nozione di cast È piuttosto chiara Per chi non programma Ve la spiego brevemente Castare significa Cambiare il tipo di qualcosa Ok In questo caso è un tentativo Perché vedete che c'è anche Cast failed Quindi se qui Mettessimo un evento Cast failed Sarebbe qualcos'altro Che ha colpito Il Altro Dovrebbe funzionare Questo non c'è nel tutorial Penso che funzioni Compiles Start Ok allora adesso Se colpisco qua Mi dà hit Che è quello che volevamo E se colpisco io Mi dà altro Vedete È piuttosto semplice In realtà È difficile Tutto insieme Ma ogni singola cosa Che faccio è piuttosto semplice Quindi questo non ci serve Naturalmente Adesso ci siamo sincerati Che l'unica cosa Che colpisce il target E che fa partire Questa sequenza Da questo evento È Un first person project Per fare ciò Abbiamo detto che l'object Che gli viene dato È l'other Quindi non è il target Di per sé Ma è l'altro Quello che lo colpisce E invece Il E niente E quindi Dobbiamo castarlo A first person projectile Perfetto Oh abbiamo fatto già La prima pagina Di 20 Bene Ora Il La sparatoria Funziona Ok Siamo contenti La nostra sparatoria Funziona Ma Iniziamo a fare Qualcosa di più interessante Io direi Salviamo Tra l'altro Venite qua E save all Per essere tranquilli Perfetto Ragazzi Il tutorial è lungo Ed è anche la prima volta Che lo faccio Non so se riuscirò di oggi A finirlo Però Imparare Richiede tempo E a me piace Questa cosa Oh no Non sono capace A muovermi Voglio andare su Perché Perché Gli viene da fare Spazio Come su minecraft Ok Bene Ok Allora Adesso Iniziamo a progettare Il resto Del gioco Ok No Nicola Non si usa mai Il codice Si potrebbe Ma Così è più Capibile anche per tutti E vale la pena Perché tanto le blueprint Si usano In ogni caso Allora Adesso Dobbiamo creare Una game mod Ok Allora La game mod La creiamo qua È sempre un blueprint Ma È una game mod Base Credo Nelle BP Delle GM Creare una game mod From scratch Potrebbe essere cucù Io sono solo un programmatore E sto imparando Quindi Allora Game mod Questa la chiamiamo GM Blu Oh no Forse BPGM BPGM Allora La Game mod Praticamente La blueprint Regina di tutte Perché Non dimenticatevi Che noi Abbiamo cambiato Due blueprint Di specifici oggetti Questa è quella Più generica di tutte Ok È quella del gioco Di per sé Che contiene La logica di gioco Ed è quella Che ci fornirà Diversi dati Variabili Ok Pertanto Andiamo a Creare questo Ora Il gioco Di per sé Non è impostato Con questa blueprint Ma con quella Del template Di base Ok Pertanto La cosa che dobbiamo Andare a fare È impostarla Per impostarla Andiamo su Window World Settings E qui Invece Il game mod override È la variabile Che ci interessa A noi Ci mettiamo La nostra BPGM Ok Fatto Ora Il gioco Funziona lo stesso Ma 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 Avrete Oh quanti fps Avrete notato Che è sparito L'UD È sparito L'UD L'UHD Il puntatorino Perché Andiamo a vedere Perché Se apriamo Il La Andiamo ad aprire Con doppio click Noteremo che Ah era qua L'evento Fanculo Allora scusatemi Fatemi vedere una cosa Ah merda Era questo Che dovevo usare io Non On it Vabbè Sti cazzi In realtà Abbiamo trovato Un'altra soluzione Comunque Per essere fedele Al tutorial Tolgo questa E metto questa Per essere proprio Identici Ok Non so Quali sono le conseguenze E questo qua Si cancella Con Deal Deal It Scusate Scusate Non lo sapevo Cioè non lo sapevo L'ho scoperto di nuovo Insieme a voi Ok Quindi qua dentro Perché quando guardi il tutorial Sembra una cazzata Ma poi non lo è Allora questo qui è il GM Blueprint Quindi qua dentro Non dobbiamo fare Niente di fisico Ok Ma Per il momento Ma Abbiamo un po' di impostazioni Da mettere Ok La prima cosa È che L'ud class Non è Ud Generica Ma è first person ud Che è quella che c'era prima E il pawn Che sarebbe il personaggio Lo impostiamo A Quello che c'era prima Che è First person character Credo Aspettate Sì First person character Perfetto Perfetto Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ehm Bene Quindi In teoria Questo salviamo Compiliamo Come sempre Compiliamo anche questo Vediamo se tutto sta continuando a funzionare Ecco che è ritornato l'ud E abbiamo sempre It Sì Però sto audio è veramente troppo alto Ehm Come cazzo si farà ad abbassare l'audio Ok Qua ci muoviamo in una zona Veramente tempestosa Chat Allora tipo con control i Aia la puttana Locate Com'è Browse to asset Ok Ehm Allora Ci sarà il volume qua Perché questo è Gli eventi che succedono Spawn projectile Questo non era Ripeto Non era nel tutorial Quindi Sto andando Completamente A caso Play sound Ok Oh Sound wave Ciao caro Allora ok Non so cosa sto facendo Ma a quanto pare C'è questo play sound Allocation Allora Ehm Noi vogliamo Probabilmente modificare Questo tizio qua Che ci avrà un volume Spero Dentro da regolare Details E questo No Oh Eh Ce l'abbiamo sicuramente qua dentro Com'è che si chiama First purse Ah First purse Audio Audio Adesso Oh Eccolo qua Eccolo qua Lo apriamo Oh E qui secondo me il volume c'è Volume Mamma mia sono un fottuto genio Ok Lo abbassiamo di tanto Perché mi rompe troppo i coglioni Adesso Save È decisamente più basso Perché ho Ho rialzato il volume al massimo Ma è ancora troppo alto Per i miei gusti Quindi lo abbassiamo Ancora un po' Save Non sono sicuro che stia funzionando Questa cosa Se la mettiamo a zero Cosa succede? Ah no Sta funzionando Solo che è Veramente molto sensibile Allora Continua a essere Non un completo deficiente Zero Zero Cinque Ok Mi sembra Ah ottimo Alaba Sì Probabilmente Mi servirà Una questione Che anche questo pitch È fastidiosissimo Abbassiamolo Vediamo cosa succede Ok I guess Va bene Ehm Strano Va bene così Va bene così Comunque Come vedete Questo qua è un approccio Molto importante Quando imparate delle cose Ok Ed è una delle cose Più preziose Che credo di aver acquisito Dall'università Si chiama capacità di generalizzazione Anche se nel tutorial Io non ho visto Come si cambia il suono Ho dedotto Che poteva essere qua E che si poteva cercare Nel coso E che si potevano cambiare I parametri Ok Per questo è importante Seguire all'inizio Dei tutorial Perfettamente E imparare bene Cosa fanno Ma poi È la grande abilità Del vostro cervello Quello di farle scalare A cose più generiche E poi Usare google Grazie Cribes Per gli otto mesi Grazie Alessandro Per i tredici Bene Quindi chiediamo questo Torniamo al nostro GM BP E andiamo avanti Ora Adesso inizia Introduciamo una cosa Molto importante Questo non ci interessa Introduciamo una cosa Molto 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 Importante Che sono le variabili Allora La cosa che vogliamo fare È memorizzare Perché deve flasharmi Scusate È un po' fastidioso Non mi rendo conto Ma flasha da solo Non so come mai Credo sia per via Del display share Ma Se al posto del display share Ne uso Non uso questo Ma uso Scusate Perché mi dà Molto fastidio Vederlo a me Dal fianco dell'occhio Non oso immaginare a voi Se uso questo Secondo me non lo fa Ok È un po' piccolo Ma Sfarfalla Eh Lo so Il problema Sapete qual è Che qua Quando apro Delle finestre extra Poi si Non le vedete più Ah Proprio no Non vedete Proprio un cazzo No Aspettate Allora Questo non funziona E se faccio Capture Capture La finestra Non funzionava Facciamo Ma non è la GPU È OBS Che ovviamente Questa roba è grossa Da far girare Se faccio Capture Game E gli do Unreal Bene Questo proprio Non si Ah Aspetta Aspetta Eccolo qua Ora se faccio così Ovviamente Ok Ulla Madonna Perfetto Direi che Cos'era Che Com'è che Vabbè Vediamo un attimino Come funziona Ah Grazie Blaster Grazie Blaster No Ok Ah Beh Mi sembra un funzionamento Non interessantissimo Niente Dobbiamo tenerci il display Che sfarfalla in blueprint È così Grazie Mr. Brown Per i due mesi Allora Scusatemi Cercherò di fare il meno possibile Perché è questo Che lo manda in bolla Credo per via Della griglia Sapete Quindi forse posso disattivare la griglia E questo vi aiuta View Debug Windows Ehm Chissà dove minchia è Help Qualcuno sa come si disattiva la griglia Credo che si possa disattivare Perché vorrei evitare che vi sfarfalli in bocca Non è un Chiamami È OBS Non credo sia OBS Mettilo full screen Impossibile lavorare senza griglia Ma non è vero Se c'ha Se 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 si attacca comunque Ehm Sicuramente su view Eh no Tasto destro No perché mi dà questo Show grid Dov'è show Non vedo show Ah si Sfarfalla anche fuori dalla griglia Adesso non fa più Vabbè sti cazzi Andiamo avanti Scusatemi Già così Allora dicevo Adesso ci mettiamo in BPG BPG Editor preferences Vabbè farò dei test Farò dei test Off live Comunque per non farvi perdere troppo tempo Allora Le variabili sono naturalmente Sono naturalmente Una delle cose più Importanti Del Della programmazione E quindi Eccole qua le variabili A noi ce ne serve una Per contare Quante volte Abbiamo hittato Un target Il gioco finirà Soltanto se Tutti i target Vengono hittati Ne metteremo più di uno E Ognuno deve essere hittato Una sola volta Vabbè Poi Poi man mano Implementiamo Tutte le cose La prima cosa comunque Che dobbiamo memorizzare È il cosiddetto Score Attuale Ok Quindi aggiungiamo una variabile La chiamiamo Current Score Qua da sinistra E È di tipo Naturalmente Integer O integer Credo che si dica Cioè È un intero È un intero È un intero La trasciniamo qua dentro Ed ecco La nostra bella Variabilina Oh merda Ok Abbiamo creato una variabile Questa variabile ci farà Contenere un intero Ok Ora Abbiamo anche bisogno Questo intero Di aggiornarlo Ogni qual volta Ogni qual volta Venga Colpito un target Ok Vi ricordo che qua siamo nella Blueprint del gioco generico E quindi ha senso che la variabile Venga messa qui Dove sono messe le cose È una cosa importante da imparare Quindi Vediamo qua E come funzione Ci aggiungiamo Più più La funzione più più Incrementa una variabile Ok Right click on viewport Ma sono nell'event graffio Display properties grid Non c'è E l'operatore più più Ok Aggiunge uno al current score O a destra avete sempre le impostazioni Ad esempio Se compiliamo L'inizio ovviamente è zero Il valore di default Ok Quindi va semplicemente A aggiungere uno Alla variabile Ora Questo evento Dobbiamo naturalmente Triggerarlo Triggerarlo Quando c'è uno sparo Ok Quando Avviene Un Un target Viene colpito Ok Quindi Aspettate un attimo Che No ok Perfetto Prima ancora Qua c'è ancora un passo Per farvi capire Per farvi capire Che io stavo Schiffando Prendiamo un evento Molto importante Event Begin Play Ok Che è l'evento di Inizio del gioco Ok Di inizio del gioco Quando il gioco inizia Naturalmente Qua vogliamo semplicemente Stampare questa variabile Ok Quindi se noi facciamo Così Questo non mi è chiarissimo Se funzionerà Sì direi di sì Print Ah no 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 Ce l'ho ce l'ho Scusate Ok allora Print string Oh è la prima volta anche per me Ah credo di dover fare così Sì 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 esatto Però questo più più Non c'entra niente Credo Sì infatti Scusate sono andato avanti Troppo in fretta Allora Facciamo un passo indietro Abbiamo creato una variabile Adesso ve lo spiego bene Abbiamo creato una variabile Ok Questa variabile è qua E ha un valore di default Mettiamolo a 10 Tanto per provare Ok E abbiamo creato un evento Begin play Questo evento viene lanciato Quando il gioco inizia Quando si preme start Ok E Non facciamo nient'altro Che stampare La variabile Ok Quando il gioco inizia Giusto per vedere Questa nozione di variabile Ok Per chi programma è ovvio Ma per chi non programma Non lo è Quindi è giusto Spiegarlo così Ecco qua Vedete Viene stampata 10 Basta Letteralmente era questo Che volevo farvi vedere 10 Perfetto C'è da notare Questo strano Coso Questa è una specie di cast Converte un valore intero In un valore stringa Perché Interi e stringa Sono due tipi diversi E per poterla stampare Deve essere una stringa Ok Questo ci permette Di fare Una serie di cose Interessanti Che vedremo anche Poi dopo Giovanni Grazie mille per il prime Alex Grazie per il prime Benissimo Ora Non ci interessa Niente di tutto ciò La variabile in realtà Sì che ci interessa E la usiamo però Da un'altra parte Devo soltanto capire Dove Dove lo fa Perché non me lo sono scritto E devo un attimo ragionarci Allora Più a più Aggiungere un custom event E collegarlo al più più Nel BP del target Aggiungere un get game mod Castarlo Collegarlo Blalala E chiamare l'evento Ok chiaro Ok Allora Siamo qua Questa era solo per stamparla Ok Era tanto per Andrew Grazie mille per il prime Quindi ora La prendiamo Piccolo tracks Se la draggate Tenendo premuto alt Vi da direttamente la set E con control la get Set e get Servono per impostare E prendere i valori Di una variabile A questo punto veniamo qua Facciamo il più più Come vi avevo detto Eccolo qua E poi creiamo Per la prima volta Un custom event Perché gli eventi Abbiamo visto che ci sono Degli eventi Ah viene colpito Però naturalmente Vogliamo essere in grado Di creare anche noi Degli eventi nostri In questo caso L'evento L'idea dell'evento È quello di quando Il target viene colpito Ma Più Più custom Perché partirà sicuramente Dall'evento Target hit Ma questo è un evento Interno Che permette L'aggiornamento Della variabile Che ci conta Quanti target abbiamo colpito Ok Quindi Vediamo da qua E prendiamo Custom event Ho creato un evento Custom Ok Naturalmente un evento Custom non parte Da solo Bisognerà farlo partire Ok Da noi Da qualcosa Quindi ricordatevi Un evento custom Non parte per i cazzi suoi Ma Dovremmo farlo partire A mano Quindi Questo evento Incrementerà Il varore Di current score Che impostiamo di modo Di default A zero Ok Benissimo Ora Salviamo qua Compiliamo e salviamo E andiamo nel nostro target Abbiamo nel nostro target L'evento In cui viene colpito Il target Ok Ed è quindi naturalmente Da qua Che dobbiamo partire Federix Grazie per il prime Un sacco di prime Un sacco di nuovi ragazzi A quest'ora Benvenuti tutti Benvenuti tutti Ehm Quindi Adesso Ehm La cosa che vogliamo fare E che a questo evento Che è del target Vogliamo Sparare Triggerare L'evento Che abbiamo appena inventato noi No? Questa è l'idea di base Mi sembra abbastanza naturale Grazie mille Sassobello Per il prime Punto scantico prime Quindi Poi nel BP del target Aggiungere un Get game mode Ok Non sono molto convinto Ah no è giusto invece Get game mode Ok Allora perché Le blueprint fra di loro Se ne vivono Per i cazzi loro Ok Cioè ognuna sta per i cazzi suoi Quindi Ci so È necessario Avere dei riferimenti Ok Dei riferimenti Fra una blueprint E l'altra Il get game mode Prende Il game mode Sono fortunatamente Delle piccole f Comunque vi stavo dicendo Il get game mode Ci darà Il riferimento Il riferimento Al Al nostro Al nostro game mode Dove abbiamo il nostro evento Custom Quindi ci stiamo avvicinando Abbiamo detto che vogliamo Far partire L'evento custom E quindi Naturalmente Avere il get game mode È importante Questo game mode Però Bisogna anche lui Castarlo Perché Bisogna dirgli Insomma Bisogna dirgli che È il nostro proprio Ok Quindi È un game mode generico Lo castiamo Al nostro specifico Game mode Ok Ecco il cast Perfetto Quindi abbiamo il nostro cast E quindi Adesso togliamo Il print string E questo cast Lo colleghiamo All'evento Quindi per il momento Abbiamo Viene ittato Un componente Viene castato Il componente Ci assicuriamo Che il Perché questo qua Va avanti Soltanto se il cast Ha successo Ok Quindi è anche questo I cast sono fatti così Sono una specie di if Una specie di branch Dopo li vediamo Comunque i branch Il cast va avanti Soltanto se è stato colpito Da un first person projectile Che è la pallina Gialla Che abbiamo visto prima E poi questo projectile Fa Dovete immaginare Questa linea Come una specie di linea Di energia Cioè quella che fa andare avanti Le cose Si va avanti A castare il game mode Al bpgm Che lo è Perché l'abbiamo impostato noi Siamo sicuri che lo sia Perché è qua Quindi siamo nel Absolute chill E poi Finalmente Non resta che Lanciare La nostra bella funzione Add Increment Score Eccola qua Ce la troviamo già Perché il Il Cosgo non è stupido Ok Increment score E questa Qui L'abbiamo creata noi Ok È la nostra custom È la nostra custom È il target Ovviamente È Il target A quanto pare Deve essere questo Ok È il gm Quindi La funzione Questa funzione Ha bisogno del Del game mode Come Target Va bene Molto bene Perfetto Adesso Castarlo nel game mode Collegarlo il cast A sinistra Con il target E a destra Con il custom event Appena creato A dare anche Una print La funzione Plus plus Ok Perfetto Quindi Che cosa abbiamo fatto Chat Che cosa abbiamo fatto Abbiamo Creato Collegato Correttamente Il La chiamata Di funzione Questa è una chiamata Di funzione Che c'è qua dentro Quindi compiliamo E di qua Abbiamo il più più Ovviamente Questo più più Non lo possiamo vedere Ok No la posizione Non cambia niente Potete metterli dove volete I nodi Anzi potete pure fare Questo piccolo Si chiamano Reroute nod Ma comunque Lasciate stare Print Stampiamo Questo valore Ok Quindi Quando viene chiamata Questa funzione Increment score Grazie mille Frankmenti Per il prime Quando viene chiamato Questo increment score Parte questo pezzo È come se fossero Tutte collegate Ok Parte questo pezzo Viene chiamato Il più più E poi stampiamo Anche il valore Quindi lo stampiamo Qua dentro Stampiamo anche Il valore Che è quello che avevo Fatto prima E tanto per vederlo meglio Lo mettiamo rosso E lo mettiamo anche Che duri un pochettino Di più No E basta Non si può cambiare La dimensione Sta merda Ok Perfetto Pre to skin Pre to lock Blablabla Perfetto Compliamo Compliamo Veniamo di qua E ora Finalmente Dovremmo avere Il nostro bel Contatory Eccolo Eccolo Che li contiamo Ogni volta Per fortuna Lei mi fa delle live Infrasettimanali Così non devo aspettare Fino al weekend Virgola Faccina sorridente Che sorride Come vedete Ogni volta Che colpiamo Un target La variabile Aumenta Il suo valore Ok Il gioco sarà Free to play Bro Il gioco E' una merda Non esiste Questo è un tutorial Comunque Ogni volta Che colpiamo Il nostro targettino Il counter aumenta Quindi Stiamo iniziando A fare qualcosa Ok Stiamo iniziando A fare qualcosa Non ho messo il rosso Hai ragione Adesso L'ho messo Orange Lagga già No 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 Lagga Perfetto Ora Il problema Qual è Che ovviamente Il target Non conta Se viene colpito Più volte È necessario È necessario Stabilire Elisabeth Grazie per i quattro Piccola È necessario Stabilire Per le grafiche E tutte quelle cose là Ne parleremo Nel secondo Nel secondo Episodio Oggi Ci concentriamo Sulle blueprint Che è la parte più difficile Non per me Ma secondo me È la parte più difficile Per il pubblico E Niente Quindi Sostanzialmente Adesso Dobbiamo Verificare Che Il target Non sia Già stato colpito Ah tra l'altro Salviamo Che è un po' Che non salviamo Che il target Non sia Già stato colpito E Se non lo è Se lo è già stato Non Incrementare Ovviamente Lo score Perché ogni target Noi Adesso qua Vi faccio vedere Una cosa importante Con alt No Con alt No Con alt Possiamo duplicare I nostri bei targhettini E per ruotare Vedete Uno Due Tre Quattro Sette Otto Ottimo content Facina che A che era Qui c'è una cosa Che addirittura Il sensei Dà per scontata Ma invece io voglio Spiegarvi bene Ang Grazie per i cinque mesi C'è una nozione Fondamentale Ossia che Il target Di per sé Esiste Ed è Ognuna una blueprint Blint È la stessa blueprint Ok Ma Dato che la variabile Si trova Nel game mod Viene aggiornata Per tutti Ok Quindi questa stessa cosa È riprodotta Per ognuno Dei Target Perché ogni target Appartiene a questo tipo E ha questa blueprint Ok Mentre la game mod È unica Quindi lo score È unico La variabile È una e una sola E viene aggiornato Però ogni volta Che parte Una qualunque Component hit E quindi Che sia quello di destra O quello di sinistra Ora vogliamo far sì Però che Appunto Lo score Può essere al massimo Due Perché abbiamo solo due target Giusto? Quindi vuol dire che ogni volta Che colpiamo un target Che è già stato colpito Non Dobbiamo aggiornare Qualcuno di voi Ha un'idea di come si potrebbe fare? Ok 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 Ricordatevi che ci sono le variabili No? Dobbiamo in qualche modo Vabbè la lava non vale In qualche modo Usare una variabile Bravi Bisogna usare una variabile Che ci Stabilisca Se Se È stato colpito Oppure no Il target Quindi Veniamo qua Ok Prendiamo le nostre variabili Ne creiamo una nuova Pronto? Is hit Ok E È un booleano Quindi è rosso I tipi delle variabili Si riconoscono anche dal colore E E lo schiaffiamo Qua dentro Ok Vogliamo In sostanza Che il più più Venga fatto Se E solo se Is hit È falso Ok Perciò Abbiamo bisogno di una cosa Che si chiama Branch I branch Sono una parte Della programmazione Fondamentale Sarebbero gli if Quindi Grabbiamo tutti questi signori qua Li spostiamo E Facciamo così E poi Praticamente La condizione È proprio lì Is it Ok Se Is it Se Is it È Vera Non dobbiamo fare niente Perché Vuol dire che è già stato colpito Se is it è falsa Invece Facciamo il più più Ok Questo non è male Ma ovviamente manca un pezzo Giusto? Eh lo so Lo schermo con il flicker è terribile Allora Fatemi Provo a fare un tentativo Inutile Probabilmente Riavvio Riavvio Il progetto Ma Non credo che cambierà niente Posso provare a aggiornare i driver Ma secondo me non cambierà un cazzo Qualora Dicevo Qualora Il target Sia già stato colpito C'è quel booleano Quella variabile booleana Che contiene vero O falso Ok Sì grazie Gentilissimo Qua c'era una finestrella utile Dave V Grazie per i sette mesi Come vedete Flick era lo stesso Ma farò poi dei test off live Di questo Dicevo Se È colpito Ok Non dobbiamo fare niente Perciò Il true Non va da nessuna parte Anzi guardate Possiamo anche fare così Print String Già Stato Colpito Lemao Ok Già stato colpito Lemao Grazie mille Dave Per i sette Se è vero È già stato colpito Se è falso Invece Dobbiamo incrementarlo Però Ci manca Di settare Questa variabile Perché di default Lei sarà falsa Ovviamente perché un target Non è colpito all'inizio Stai sbagliando No no trust è giusto Alaba Quindi Dobbiamo naturalmente Impostare Impostare La La variabile Qualora questa venga colpita Quindi Nel ramo Nel ramo False Cioè se non è stato colpito Ma ricordatevi che questo evento Parte Da Parte Da Uno sparo No Quindi se Non era stato colpito E adesso viene colpito Perché siamo qua Abbiamo bisogno di Impostare Is it Abbiamo bisogno di Impostare Is it A true Quindi Facciamo così E così Ok In questo modo La nostra bella variabile Dovrebbe essere Impostata Ok Il branch Devi metterlo Sui Ah potrebbe essere Sui bersagli O sbaglio Maia la puttana C'hai ragione tu Lo stavamo facendo Nel GM Hai ragione tu Hai ragione tu Sono stupido Ho sbagliato il posto Ok ok È esattamente questo Ma Iaiaia È esattamente la stessa cosa Ma non va fatta qua Perché Giusto giusto Ricercatore Ma che cazzo vuoi Ma che cazzo vuoi Che non l'ho mai fatta sta roba Infatti non ho sbagliato la logica Credevo che ti riferissi alla logica Ho sbagliato dove l'ho fatto Allora Come mai Come mai Ehm Come mai È sbagliato fatto qua Così ne approfittiamo per spiegarlo Perché Il Easy Un saluto Mi da Genova Deve essere Comunque io dico sinistro verde Una variabile Deve essere una variabile Del target Non del game mod Perché ogni target Deve avere un easy Giusto? Eh Giusto 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 Molto bene Molto bene Bravo Alaba Una stellina per te E grazie breaks per i tre mesi Quindi andiamo di qua Dobbiamo fare sostanzialmente la stessa cosa Ma la variabile Non è del gm Ma è del target È chiaro no? Quindi andiamo nella blueprint del target Qui aggiungiamo una variabile Is it booleana Poi la trasciniamo sia con uno Che con l'altro Poi Dopo questo cast Ok Soltanto se Non è Ehm Scusate Branch Fatemi scrivere E poi lo ripeto Soltanto se Is it È Ehm Correttamente È falso Diciamo Andiamo avanti Se è true Mettiamo il print string Come vedete Una volta che uno si abitua Non è difficile Già colpito Il Mao Ok E E Quindi compiliamo E compiliamo anche di qua E Niente Quindi Questi li spostiamo un pochettino più avanti Questo lo mettiamo qua sotto E il set va messo qua in mezzo Bravo Laba Ben fatto E Settiamo is it a true Qui ne cambiamo il valore Ok Perfetto Quindi Salviamo Compiliamo Scusate Vediamo se funziona Siamo nel nostro bel gioco Quando colpiamo Lo score diventa 1 Se Colpiamo di nuovo Ho già colpito Le Mao Se di qua 2 E se colpiamo Ho già colpito Le Mao Adesso Come vedete Siamo a posto Listo? Nice and clean Ora c'è soltanto Una piccola questione Che Soltanto un assassino Criminale Serial killer Farebbe un if La cui condizione principale Quella che va Fa andare avanti Lo collega al falso Ok? Soltanto un criminale Un serial killer Potrebbe fare una roba del genere Ok? Quindi Teniamo Tutto esattamente Com'è Ma Introduciamo Un nodo Not Decisamente Non questo Introduciamo Un nodo Not E basta Booleano Piccolo Dove sei? Not empty Not equal Not Oh Not e basta Dai Not equal Exactly Not Boolean Grazie piccolo Quindi Invertiamo L'input Questa è semplice Logica Booleana E dunque Invertiamo Allora Questo qua Lo togliamo Che non ci serve più E lo mettiamo nel true No si può fare così Si fa così E questo Alt E lo scancelliamo Ok Come vedete Così è molto più sensato Stavo soffrendo prima Quindi Semplicemente Che cosa facciamo? Diciamo che Se non è colpito Se non è colpito Se non è colpito Andiamo avanti True Se è colpito Quindi E Questo sarebbe Se è Colpito Appunto Non facciamo un cazzo Ok Le mau Se non è Se non is it Se invece Non is it Ovviamente Non Diventa falso E quindi E quindi Siamo in questo ramo qua Perfetto Oh Abbiamo fatto la seconda pagina E Siamo a buon punto No Siamo Super indietro Come vi sta piacendo Secondo me è interessante Grazie chi Per i quattro mesi Punto esclamativo Prime Se vi divertite Credo che sia abbastanza chiaro Anche per chi non è un programmatore O comunque Per chi non ha mai fatto queste cose Io non l'ho mai fatta E per me è chiaro Pertanto Dovrebbe esserlo anche per voi Ma è stato colpito? Non è Non è Benissimo Ma è stato colpito? Allora Adesso Abbiamo una serie di cose da fare La prima Delle quali E Quindi salvare Sempre Ogni tanto salvate La prima Delle quali È progettare L'interfaccia grafica Del gioco Ok Sì si può programmare Come i veri Chad Ma non è quello che facciamo qui Grazie mille Matteo Per i 13 mesi Eh lo so Gli attacchi epilettici Purtroppo Non sono neanche sicuro Che possa essere risolvibile Ma c'è gente Che registra con OBS Quindi magari c'è qualche tweak Da mettere Quindi la stessa variabile Si duplica sui due bersagli Esatto Andrea Molto bene Bravo Ben detto Is it È ovviamente diversa Per ognuno dei target Perché ognuno dei target Istanzia questa blueprint E il suo spazio di memoria Ok Ipotizzo Ehm Ora Dobbiamo creare L'interfaccia grafica L'interfaccia grafica La mettiamo anche questa qua Genericamente in content Voi organizzate meglio le cose Io non ho voglia L'interfaccia grafica è Ovviamente Pure questa Una Ehm Oh merda Non è qua E naturalmente Anche questa Una fottuta Una fottuta Ehm Blueprint Sono tutti i blueprint Per questo Borghese Grazie per i prime Per questo che secondo me È importante utilizzarli E la aggiungiamo qua La chiamiamo Ehm Per Ehm Allegrezza La chiamiamo Ehm Blueprint Underscore UI Interfaccia grafica Ok La apriamo Come sempre Eccola qua Piccola E la mettiamo qui Notate che hanno delle icone diverse Per non confonderli Cosa che io ho fatto prima Ora le interfacce grafiche Sono piuttosto semplici Almeno per quello che ci serve Da fare noi Ehm E Ehm Iniziamo A zoom Ok Iniziamo Qua ci sono le componenti Ma potete mettere Un pulsante Ehm Grazie Potete mettere un pulsante Non succedeva niente Potete mettere un pulsante Potete mettere un po' di cose A noi per il momento Ci serve un testo Ecco qua Perfetto Molto bello Ci serve un testo Ora qua E qui chiederò L'aiuto di Alaba Ehm Non so perché Non mi viene la Ehm Screen size Forse devo impostarlo Monitor Television Field screen No Buonasera Mettiamo 1920x1080 Ehm Ecco sì Credo che sia questa La cosa che volevo fare No 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 Scusate Allora Non so perché Non c'ho la Dovrebbe esserci tipo Un quadrato Che mi da La zona visibile Del gioco Forse però è screen size Lo voglio impostare Alla Wii però Ciao Io non mi bendo Ciao bendo Grazie Christian Grazie trad Pad Non so se Zoom to fit Screen size Vabbè Laptop Diciamo monitor 20 polli Succede qualcosa No Ehm Custom home screen Cosa Grazie mille Joshi per il prime Non so bene come Dovrebbe Vi spiego Dovrebbe esserci un quadrato Che mi da la zona visibile Nel gioco Field screen Però non c'è Ah forse è questo Proprio direttamente DPA scale In basso destra Oh merda Oh merda No 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 Cos'è questa roba Aiuto No Non so perché Questa cosa è cambiata Rispetto Al No device safe zone Eh No è il device Secondo me E' il device Che devo mettergli Però no 1080 1920 27 polli Però no No device Eh Che cazzo vuoi No safe zone Deve esserci un'impostazione Da qualche parte Sicuramente Vabbè Diciamo che la Dedurremo Ok Provo ad aggiungere un canvas Oh no Non so cosa sia un canvas Prima fila Ah si si Oh bravo 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 Questo qui ci assomiglia Alla cosa che cercavo io Non so ancora se E poi questo canvas Lo mettiamo A 1920x1080 E lo ancoriamo Centrale Could be eh Could be Meno male che avevo detto Che ero facile Le interfacce grafiche Ma in realtà Credo che sia io Che mi sto fissando Su una cosa Che non ci serve veramente Grazie Esox E' già in fill Era di default E' il canvas Wow Ok baby Ok Allora Proviamo a fare una cosa Quindi text Ok Ok Questo è l'ancoraggio Lo ancoriamo In alto a sinistra That's very nice Ok questa cosa era diversa Ma l'abbiamo risolta Mettiamo come Come dimensione Fonts Roboto Così Salviamo E Vediamo subito Com'è Vediamo subito Com'è chat Salviamo Compiliamo E dovremmo Proprio avere Ovviamente Ovviamente non c'è Non c'è E dovreste saperlo Perché non c'è Kintosis Grazie per il prime Dovreste sapere Perché non c'è Perché chi mai gli ha detto Era un beta Lava Sì sì Chi gliel'ha detto A questo qua Ricordatevi Quando progettate No 400k Mi sembra troppo Quando progettate cose In unreal Non è Niente funziona da solo Dovete fargli Da balia Dovete dirgli Oh Generati Quindi Quindi Come possiamo fare Facciamo così Ehm Creiamo Sto dando memoria Ma Credo sia giusto Aspettate Nel game mode Dell'evento Eh Game mode All'evento Begin play Ah Allora avevo ragione Semplicemente Quando inizia la partita Dobbiamo dirgli Oh Fammi saltare fuori Questa interfaccia grafica Ok Come si fa? Si dà Un bel Ehm Create Uuu Ai 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 Ehm Ok Ok E' questo Creiamo il widget E adesso Che l'abbiamo creato All'evento Begin Naturalmente Naturalmente Adesso Non funziona Perché non funziona? Perché ve l'ho detto? Allora non ascoltate un cazzo Di quello che vi dico Bisogna dirgli Non solo di crearla Ma anche Di farla vedere Anche di farla vedere E quindi Add to Viewport Ok Adesso Adesso Funziona Giusto? Adesso funziona Giusto chat? Funziona? Funziona? No? Perché no? Certo che funziona Abbiamo C'è un errore Di compile Perché mi sono dimenticato Di dargli il target Ma Certo che Perché non dovrebbe funzionare? Non c'è alcun motivo Per il quale non dovrebbe funzionare Non ce n'è nessun motivo Eccolo qua Eccolo qua Ed è giusta anche la cosa del canvas Sì sì lo so Alaba Ma seguo Seguo man mano Il tutorial Pedestramente Per non far cazzate Chiave a becco Grazie per i prime Black Grazie per i prime Perfetto La volete in comic sans L'interfaccia grafica Mi state facendo male al cuore Spero che non ci sia Non c'è Perfetto Perfetto C'è soltanto Buonasera caro Attendo con ansia La prossima live sudoku Bacini Va bene Asia Grazie per i tre Bacini a te Non si può fare In sudoku In cosa Allora rendiamo questo qua Un pochillo più piccolillo In termini di font Quindi tipo così E adesso Anziché avere Il Il bruttissimo Bruttissimo Score Scritto Male Marciamente Nella print La Mettiamo nella viewport Ok Non scaricherò Il comic sans Come si fa Beh Per prima cosa Dobbiamo esporre Come vi dicevo Adesso Abbiamo la Wii Che sta qua Wii Che sta qua E la GM Che sta qua Quindi Dato che le due cose Sono separate Si devono Necessariamente Parlare Fra di voi Fra di loro Ok Togli il D game Non c'entra il game L'ha sempre fatto L'ha sempre fatto Non c'è nessuna Non c'è nessun cattura gioco Purtroppo E' proprio il mouse Che Cioè Non lo so E' così Non ho altre fonti In questo Quindi c'è GM E UI Che tra di loro Si devono parlare Necessaria Mount Ok Bene Allora Come facciamo Per prima cosa Ci serve Che Mostrare Lo score updated Nel widget Andare Nel pannello Graph Del widget Ah Ok Questa è la nostra Interfaccia graph Bologna o Verona Non lo so Broschi Milano Espresso Non lo so Di Bologna Conosco persone Di Padova E Verona No Comunque L'interfaccia grafica Ok E' come vi dicevo Anch'essa Una blueprint E quindi Anche qua C'è il blueprint Si trova qua in alto a destra Ok Quindi Anche qua dentro Possiamo farci le cose Divertenti e allegre Ehm Qui dentro Facciamo una Event Construct Quindi Generiamo Un custom event Ok O meglio L'event Construct Sarebbe l'equivalente Del custom event Ma dentro I Widget Ok Le cose stanno iniziando a farsi un po' complicate Chat Occhio C'è il begin play Che ci genera La Interfaccia grafica La funzione increment score Che incrementa lo score E per il momento lo stampa A schermo E non ancora dentro Il widget C'è la nostra interfaccia grafica Che Ehm Adesso andiamo a lavorarci E poi c'è il nostro target Che quando viene colpito Va a Aggiornare Se non lo è già stato Il Va a chiamare la funzione Di incremento Dello score Ok Adesso siamo nell'event Construct Ok Ehm Ah c'è ragione E l'equivalente Ha ragione Alaba Un'imprecisione E l'equivalente Del Begin Game Ok Quando viene costruito Il widget Parte questo Cliccando qui Qua Ehm Quando Il widget Viene Costruito Si può mettere un commento E questo mi serve un buon commento Da aggiungere Bravo Alaba Vabbè Alaba Lo fa di mestiere Ok Adesso Dentro al nostro widget Ci serve Ci serve Ehm Prendere il valore Del current score Ok E per Credo Non lo so Penso di sì Comunque in generale Ci serve il nostro Game Quindi get game mod Ehm C'è stato un piccolo F Non vi preoccupate Get game mod E poi da qua Cast To GM Quello E l'abbiamo già fatto prima Identico Ok Ora Questo qua Ehm A questo qua Facciamo seguire Una set Facciamo prima Prenderla da qua Però Ecco qua E Ah perché il tipo è sbagliato GM BP Underscore GM Ah Perfetto Non rompere Perfetto Perfetto Allora che cosa abbiamo fatto Che cosa abbiamo fatto Piccoli Abbiamo detto Guarda Quando il widget Viene costruito Ok Ehm Quando il widget Viene costruito Prendimi la game mod L'abbiamo già fatta prima Questa cosa Prendimi la game mod E la castiamo Alla nostra game mod La BPGM E poi Impostala All'interno Della variabile GM GM ref Ok La variabile GM ref Quindi Ora Contiene Il nostro Riferimento Al game mod Ok Ora Non resta Che Creare Un Evento Credo Qua dentro Aspettate un attimo Sì Non resta Non resta che creare Un evento Che aggiorni Il label Del widget Ok Ovviamente Questo evento Sarà in qualche modo Collegato A quell'altro Di prima Ok Un custom event Esatto Quindi qui Quindi qui abbiamo Semplicemente Settato la variabile E per il momento Siamo nel chill Ovviamente deve essere così E per il momento Siamo nel chill Ora La primissima cosa Che ci serve Ovviamente È la variabile Do Nel quale Scrivere la roba Cioè Questo signore qua Questo signore qua Non è una variabile Per il momento Vedete Non ce l'ho qua Se voglio scriverci dentro Fava Scusate Qua Se voglio scriverci dentro Fava Non posso Perché non ce l'ho Come variabile Quindi la Devo esporre Qui dentro Nel designer La chiamiamo Score Ehm Score Text Ok E diciamo che Is variable Ok In qualità Di variable Adesso Se vengo E se compilo Se vengo di qua Me la ritrovo Eccola qua Quindi L'idea Adesso è di creare Un evento Che verrà naturalmente Lanciato Da Che verrà Raccolto Insomma Verrà gestito In qualche modo Nel momento in cui Noi spariamo E questo evento Non deve far altro Che scrivere La variabile Score Current Score Che abbiamo Nel GM La deve Scrivere Dentro Il nostro widget Che è Score Text Quindi abbiamo Due variabili Una deve essere Scritta dentro L'altra Ok Quindi Qua sto andando a memoria Perché mi sembra L'unica cosa ragionevole Che deve succedere Creiamo un custom event Lo chiamiamo Update Score Text Ok qua sto cambiando Tutti i nomi Mi perderò Ma Sono Sono Proficient ormai E Questa qui Dobbiamo mettere Un set Text Non c'è Ok Allora Iniziamo Sicuramente Lo score Text ci serve Quindi dobbiamo Prenderlo Ti voglio a Lupus Buona serata Eccolo qua Perché deve partire da qua Perfetto Grazie Fabrizio Per i 17 Eh a Lupus Mi divertirai E by star Grazie per i 9 Punto scatio prime Allora L'idea qual è? Che noi Prendiamo la variabile Non so perché Non utilizzi Una Giusto Giusto Vabbè Allora Praticamente La variabile Che contiene Il widget Non è il testo Direttamente Ok Non confondete le due cose Non è direttamente Non posso direttamente Scrivere nella variabile Ok Capite la differenza? Non posso direttamente Scrivere nel quadrato Nel Il contenuto Perché la variabile Mi espone tutto l'oggetto Ok Mi espone tutto questo Quadrato Non solo il posto Dove posso scrivere L'idea è un po' questa Quindi devo Prendere l'oggetto Intero Ok E Chiamarci sopra Una funzione Che imposti Il testo Ok Che naturalmente Sarà questa qua Se io qua dentro Ci scrivo Fava Ok Dovrebbe Scrivere Fava Ovviamente Non è il momento Perché non è collegato A niente Però Prima di fare L'evento giusto Facciamo un piccolo Esperimento Ok Facciamo un piccolo Esperimento Anzi Facciamo così Per vedere Se ho capito Anch'io Allora A parte Oh merda Oh merda Non posso duplicarlo Il cavo bianco Mi sa Ok Lasciamo un attimo Stare questo Che lo ricolleghiamo Dopo L'idea Qual è Stiamo facendo Un passettino Indietro Per capire Se abbiamo capito Tutto Ok Abbiamo detto Che questo evento Che si trova Nel widget Nella Ui E anche questo Al momento Questa roba Al momento Non è usata Questo evento Viene lanciato Quando l'interfaccia Grafica Parte Parte Perché L'abbiamo Fatta partire Qua Ok Quindi Quando L'interfaccia Grafica Parte Vogliamo Usare Vogliamo Impostare Il testo A Fava Ok Quindi Vai via Ok Vogliamo Impostare Il nostro Testo A Fava Quindi Prendiamo Score Text Che è Una variabile Che è La variabile Associata A questo Oggetto Che contiene Il testo Ma anche Altri parametri Ad esempio Per farvi Capire la differenza No Non è sufficiente Scrivere Nella variabile Qua Come Vedete Il valore Il valore Non è Il testo È La text box È proprio La scatoletta Ok Quindi Ad esempio Da qua Potremmo anche Far partire Altre cose Tipo set font Ipotizzo O font size Resize Vedete Posso cambiargli La dimensione Posso fare Tante cose Quindi La cosa Che vogliamo Fare noi In particolare È set text Quello che sto cercando Di farvi capire Ed è molto importante È la differenza Che c'è fra qui Ad esempio Anzi Meglio ancora Qui Dove impostiamo Facciamo direttamente La set del valore Del booleano Ok Grazie mille Grazie mille Riccardo C'è la differenza Che c'è fra impostare Il valore Del booleano E invece Dover chiamare Una funzione Perché il contenuto Della variabile Qui Non è Uno stralcio Di testo Non è Text block Ma è proprio Il blocco Vero e proprio Ok Mi raccomando Questa è una differenza Molto importante Quindi vediamo Se funziona In teoria Semplicemente Dovrebbe esserci C'è scritto fava E infatti c'è scritto Fava Accade Dopo un po' Cioè accade immediatamente Perché appena viene generato Viene subito sostituito Però Questo vi dimostra Che stiamo capendo Quello che stiamo facendo Almeno che lo sto capendo io Spero Anche voi Ora Rimettiamo come erano le cose Perché Questo aggiornamento Del testo Ok Deve essere fatto Innanzitutto Deve essere fatto Ogni volta che spariamo Primo E poi Non deve essere fatto Con fava Quindi mancano due cose Manca quando L'aggiorniamo E manca con cosa L'aggiorniamo Ok Sono due cose Che ci mancano Però ci siamo Abbastanza vicini Perché Con che cosa L'aggiorniamo Beh Dobbiamo aggiornarlo Con il valore Di current score Current score È una variabile Che sta Dentro Il GM Ok Dentro la game mod Vedete È qui È questo signore qua Per averla Abbiamo fortunatamente Il riferimento Alla game Mod Quindi se facciamo così Dal riferimento Siamo in grado Di Tirare fuori Il Il testo Ora Ovviamente Non posso collegarlo così Direttamente Ok Devo prendere Il La variabile Che ci interessa Ok Quindi Get Current score Ok Prendiamo dal riferimento Riuscite Riuscite a capire No Abbiamo preso Il riferimento Il riferimento E da Che è tutto questo E da qui dentro Prendiamo il current score Anche se Anche se Secondo me Bisogna mettergli L'occhiolino Secondo me Ma non sono sicuro No Direi Di no Per il momento Almeno Boh Non lo so Vediamo se funziona Funziona No Perfetto Ok Quindi Current score Adesso Ah Perfetto In pratica In pratica Abbiamo Senti eh Abbiamo Che Questo signore qua Questa funzione Questa Evento Custom Chiama La funzione SetText E questa SetText Imposta Lo score Text Che è Scusate È chiamata Su score Text Perché il target Sarebbe tipo Il this Cioè quello che sta Prima Nella chiamata Di funzione E il nostro Score Text E il contenuto È il current Score Ok Quindi Metal abbiamo fatto Che cosa vogliamo Scriverci dentro È il current Score E ciò Ciarba 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 Ripeterò tutto Tra un istante Ma Naturalmente Questa funzione Deve essere chiamata Broski Deve essere chiamata Altrimenti Dove la chiamata Secondo voi Secondo voi Dove ha senso chiamarla È bello seguire il tutorial Ma Anch'io ci sto ripensando Man mano Dove ha senso chiamarla Secondo voi Al telefono No In che punto del codice Devo chiamarlo Quando colpisce Bravo Molto bene Quindi Potrebbe Però quando colpisce Sarebbe qua No E Secondo me Si potrebbe mettere Anche qua In teoria Però 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 Secondo me Ha più senso Metterlo qua Ok Perché Nella game mod Quando viene incrementato Lo score Che a sua volta Viene chiamato Da qualche altra Dal target È una cosa più generica La questione Quindi Anziché Scrivere qua Chiamiamola Add No Increment Score Ho appena creato Un loop infinito Come cazzo Si chiamava Questa Updates Cortex Ok Non ho compilato Vero Perché non me la trovo Allora Bastardo Bastardo È giusto Giusto Non c'è Perché Secondo voi No 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 Lo so Lo so Ho capito L'aba Scarrafuno Mamma Grazie per i nove mesi Secondo voi Perché non c'è Perché È nella Wii Non è raggiungibile Questo evento Quindi Ci serve Un'istanza Della Wii Facciamo la stessa Cosa di prima Chiamiamo Ref Wii Una variabile Qua ci sono sicuramente Tanti modi Di farlo Ok Gm Wii Ma io faccio così Che Ma che vuoi BP Sono stupido BP Wii Ah Piccolo BP Wii Perfetto La prendiamo La castiamo Pure questa Di sicuro Cast To BP Wii E così Abbiamo il nostro Bel No non è vero Non serviva Non serviva Castarlo ovviamente Perché il tipo È già questo Sto cercando di Imparare Man mano E qui Ce l'abbiamo La funzione Ok È ovvio Perché Non possiamo Chiamarla A cazzo Perché Non è Esposta da qua E ci sarà un modo Probabilmente di metterla Global O quello che è Ma abbiamo bisogno Del riferimento a lui Per poter chiamarla Per poter chiamare Questo evento Per poterlo Triggerare Quindi Non resta che fare così E adesso Se Compilo qua Compilo qua non serve Compilo qua non serve Play E text block Se quel bastardo Non mi facesse Ok Ok Access Ah Ia la puttana Certo 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 Ok 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 Allora Ci sono Non me lo sono scritto In realtà Ma Questo viewport La UI È questa Merda Ok Quindi In teoria L'abbiamo Dal Begin play Add to viewport Basta farla Diventare una variabile Vabbè Grazie al cazzo Make variable Piccolo Promote to variable Ok 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 Oh Promote to variable Eh ma Eh ma Eh grazie al cazzo Ma Promote to variable To madre E poi Dove Minchia Come lo collego Alla mia Alla mia fava Interna Vorrei sapere If possible If possible Collega il set E rinomina Tipo Ah Wait C'è Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ok Qua ho creato Ok 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 Muori Non ti voglio più Addio Ea che Se io qua faccio così Sto imparando chat Sto imparando Non è una guida la mia Bang Ok This is interesting Secondo me Questo funziona Ma Ma Ha bisogno del Del juice Del juice Mi piace pensare alla linea bianca come un juice No Dai piccolo Come un juice Vediamo se funziona chat Oh mi sto divertendo eh Minchia non mi divertivo così Perché Dovete capire che una volta che uno sa programmare Non si diverte più Mi diverto così da dieci anni Boom Baby Let's go E' molto divertente Questa cosa Che sto facendo Perché Perché Abbiamo fatto Praticamente che Il tipo Questa merda Ritorna il widget Ok Ma è arrivato a 2 e basta Certo perché lo scorre al massimo 2 Abbiamo messo Abbiamo messo il Il favetto qua Apposta Quindi Vedete All'inizio è text block Quando sparo Questo target è stato colpito Quindi viene incrementato a 1 Se sparo ancora Non succede niente Come è giusto che sia E se sparo qua I target colpiti sono 2 Quindi i punti che ho fatto Sono 2 Ora Ehm La cosa Interessanta È che Allora Per fare quello che volete Che volete dire a voi Di salvarsi i punti genericamente Basta esattamente fare questo Poi funziona già Quella roba lì Vedete Mi puoi togliere questo shift f1 Ogni volta che scrivo qualcosa Vedete Così continuano ad aumentare Ma Non è quello che vogliamo fare noi Perché Ehm Perché noi vogliamo che ogni target Valga un solo punto Ok So That's pretty interesting Direi Ehm That's very pretty interesting Ehm Adesso Questo non fa Non va full Se faccio così La Così non flickera Così non flickera È il full screen Che lo fa flickerare Come un coglione I'm so smart I'm so smart Pensate che sistema operativo Straordinario Che è Windows Poi mi diventa Ah Sei un Apple Coglione Coglione Apple Guarda Guarda Un sistema operativo Che se metti full screen Dio bono No flickera Se non metti full screen Flick Ma che cazzo di senso Senso Oh Comunque Fixed Non flickera Chat Scusate se vi ho dato La morte Fino in questo momento Per nulla Però Non flickera Ok Colpa di Unreal Engine Non di Windows Sì 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 Esatto Comunque Ehm Ora Ehm Benissimo Adesso Manca soltanto più Una piccola cosa Ossia che Quando faccio Apply Quando faccio Apply Come vedete Questo 1 2 Non è proprio Bellissimo No Quindi Dobbiamo Necessariamente Migliorare un pochettino Questa scritta Che è qua E qui che viene fatta la scritta Ok Su BP Nella Updates Cortex Ah tra l'altro Una cosa importante Che vi faccio vedere Se selezionate Fate C Potete scrivere Un comment Qua diciamo Semplicemente Costruisci Ehm No Ehm Iniziali Inizializza Una Un riferimento Alla Ehm Game Mod Al lancio Del Qui È un commento Un po' De merda Ehm Però Così almeno Ce l'abbiamo Ben separato Ci sta All'inizio Extra commentare Le cose Se non sapete Bene Quello che Succede E questo qua Poi lo facciamo Dopo Ehm Bene Ora La questione È che questo score Fa un po' A No Cioè Bisogna Modificare un po' La stringa E migliorarla Inizierei Innanzitutto Nel vedere Che quella di default Non è text block Ma è Piccolo Non so come si scrive Dentro Ah qua Ma è Score 2.0 Perché ovviamente All'inizio È 0 Ok Poi qua Se vi piace Se vi interessa Potete aumentare Lo spacing Non ve lo suggerisce È un po' strano Potete mettere Strike brush Potete fare di tutto Potete mettere Uno shadows Potete mettere Un po' di shadows Se volete Non funziona Shadow color Perché la Vabbè Potete fare Delle cose Blind Blonde Shadow color Ciao Inc se ho Windows 10 Ma non ho attivato Windows Come faccio Ad avere Windows 11 Compralo Piccolo Non hai Alternativa Non so perché Ah la tinta Era questa Forse Non so perché Non funziona Benissimo Cioè non so Come si fa A mettere Lo sfondo Alpha è a 0 Ma forse Non sa Non sa Con chi parliamo Noi Io sono Top Alpha Ah c'è 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 Fa schifo Ma c'è Aumentiamola Un poco Un poco Un pochitto Un pochitto Eccola Piccola Guardate che Bell'interfaccia Grafica Straordinaria Vabbè Letter spacing Un po' troppo Ah anche così Non è ma Vabbè Così Quindi questo È quello Di default E poi E poi Ha il suo posto Al suo posto Ci mettiamo Qua Dobbiamo anche Aggiungere La scritta Ok Quindi Utilizziamo una funzione Che si chiama Append Che è una semplice Manipolazione di string Non particolarmente Interessante Praticamente Il current score Lo mettiamo In un append No Perché il current score È Un Il current score È un Int Quindi non si può fare Quindi lo mettiamo E basta String Append Uno è questo E l'altro È questo Poi finisce qua Bla 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 Mi sembra un po' Una stronzata Perché c'è un doppio cast Che non ha senso L'unico che riesce A fare questo tipo Di content Per migliaia di persone Grazie Sabaku Quindi allora Perché questo qui Al momento è un int Viene convertito In string E poi deve essere Convertito in text Però scusami Non posso fare così direttamente No Ah sì sì Ok ok Vedete che c'era Un casting più inutile Ok Che cosa abbiamo fatto Abbiamo detto Senti bomber Parti dal riferimento Prendimi il current score Questo è il get current score Conve Appendimici score davanti Mi raccomando Lo spazio eh Se no Poi questo finisce In text Quindi string e text Sono di due tipi diversi Credo E dovrebbe funzionare Vediamo un po' Inizia con score No ma senti Mi devi levare Questa cazzo di cosa eh Ok Vediamo così Yes Perfettamont Va bene Alaba Grazie mille Perfettamont Che cosa abbiamo fatto Abbiamo Ripeto Abbiamo Se riesco a cliccare Le cose giuste Abbiamo preso Il current score L'abbiamo Appeso Davanti A score Come B Quindi append Con catena due string Ok La prima è score due punti La seconda è il current score E l'abbiamo poi inserito Quindi optimal Optimale Ora facciamo così Lo mettiamo un pochettino In ordine E Niente Mitico incone In ordine Così Grazie mille Mark Grazie piccolo Lo commentiamo anche questo Questo qui che cos'è E' una E' la E' Aggiorna Il widget Score Con il Lo Score Corrente Molto bene E avete Le vostre belle cosettine Commentate Tra l'altro potete pure Grabbarli dal commenti Che sono ottimi Ehm E non è male Ehm Una cosa anche interessante Che vi dico E che se voi venite qua State ad esempio Leggendo altre cose Così Potete Doppio cliccare E vi porta alla funzione Ok No no C'è anche la possibilità Di modificare il codice Aieie Però sia per Twitch E sia perché le blueprint Fanno comunque parte Della meccanica di Unreal E di come si progettano le cose Conviene imparare le blueprint Ok Mettiamo anche un commento qui Lo chiamiamo Istanzia Ehm Ui Perfetto E questa Ehm La lasciamo qua No vabbè Commentiamo anche questo Ci sta ogni tanto Mettersi lì Mettere un po' posto Questo non serve più Ecco fatto Questa qua invece È la increment score Che Ehm Increment Da Lo score E Lancia L'aggiornamento Della Ui Perfetto O Questo qui è il Ehm Grazie Berlusconi Questo è il nostro Ehm GM Ok E poi nel target Per il momento Abbiamo solo questo Ma poi dovremmo aggiungerci delle cose Quindi per il momento non commento Però Ehm Non è male Ora Io ho bisogno di fare la PeeWee Mi sto divertendo un mondo ragazzi Io Programmo ormai da Tipo Undici anni Quindi Ehm Non mi divertivo a fare cose nuove Da un sacco di tempo Grazie L'ho letto L'ho letto Grazie mille per l'euro Comunque se ti servono aiuti anche per le prossime puntate Scrivimi più in privato Grazie 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 Ehm È veramente molto molto divertente Divertente Spero di riusciervi a spiegare le cose Anche se Io stesso le sto imparando in questo istante Ma Ehm Mi sto divertendo Mi sto divertendo Leonard Grazie mille per il Prime Allora io vado a fare una Ehm Istanza No Il verbo è istanziare però Ehm Ho forse scritto istanziare Il mio phd preferito anche durante la settimana La mia vita non ha più senso No piccolo Perché dici così? Fonzio Istanzia Ah è giusto giusto Eh perché è il voce del verbo istanziare Comunque vado a fare una piccola pipì Chat Una piccola pipì E E torno Allora adesso dobbiamo ancora fare un po' di cose Vi dico che cosa andiamo a fare tra poco Abbiamo ancora un'oretta circa Ehm Andiamo a Ehm Creare la schermata di fine game Quindi quando lo score raggiunge Un certo valore Che adesso andiamo a vedere Ehm Dobbiamo far finire il game Ok E poi Fatto questo dovremmo Con anche un pulsante Che lo fa ripartire Infine Ehm La cosa più importante Che dobbiamo anche fare E rendere il gioco un po' difficile Quindi Introdurremo Un countdown Un countdown Countdown Non so come si pronuncia bene Che parte nel momento in cui parte la partita E se non riusciamo a hittare tutti i target Ci attacchiamo alla fava Ok Una Poi dal punto di vista Quindi queste sono le due cose ancora di logica Che dobbiamo fare Poi dal punto di vista grafico Aggiungiamo la fisica dei target Che quando colpiti Pum Volano via E Andremo a mettere tutto quanto In una Mappa vera e propria Perché questa Alcuni potrebbero sostenere Fa cagare il cazzo Vado a fare la pipì A fra poco Rimane Stay tuned Perché Non so se è già la parte grafica Ma il resto di sicuro Riusciremo a farlo di oggi A Fra poco Ok Allora Adesso Iniziamo delle parti Un poco Un poco Complichette Ok Iniziamo Con il Fine game Ok Fine game Allora Nella Eeeh Fuck Non so dove Aspettate un attimo Dobbiamo branchare Oh shit Qua iniziano delle robe Un po' complicate Allora Quando è che finisce La partita Chat La partita finisce Quando il numero Di target Ok Dovrebbe essere Nel gem Si Il numero Di target E due Quando lo score E due Perché ci sono solo Due target Anzi sapete cosa Fuck 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 Rendiamo il gioco Più difficile Aggiungiamo dei targets Vi ricordo Alt E poi Ruotates E poi Questo Alt No Q W Alt Così E poi Ruotates Oh no Questa è la parte Che Q Non vi siete persi Niente Vi siete persi Me che non so cliccare Tra l'altro Poi Scaliamolo Grazie No Non era quello Che volevo fare Locchiamo E scaliamo Oh Così c'è uno più grosso Eh Oh Adesso abbiamo Più target Uno Due Tre Quattro Funziona Ovviamente Eh Grande Già sento odore Di contratto Dalla Activision Non credo Non credo Marchetto Grazie Ponzio Pelato Grazie Bess Per i due mesi Mi sto divertendo un mondo Chat Non so se si nota Che piace la frutta Metti il target Con le vostre facce Invogli la gente A spedronare Quello si può fare Forza Napoli Ti amo Carmela Mangiate la tinta Non oggi ma si può fare Allora Quindi la partita finisce Quando Il current score Diventa N Dove N È il numero di target totali Quindi per prima cosa Ci serve sapere Il numero di target totali Ok Quindi Prendiamo un Event Begin play Eccolo Salviamocelo Ah era già preferito Prendiamo Oh Fuck Avanti del Ah Era qua Era qua davanti Ok Allarghiamo un po' Questa zona Perché qua devono succedere Altre cose Quindi questo qua È To do Perché succedono Altre cose qua Questo event Begin play Non è riproducibile Quindi prendiamo Questa roba qua Ok Diamoci un po' Di spazio Per lavorare Chat Ok Allora Event Begin play Da qui Vogliamo prendere Tutti Get all Actors Of class Perché Ci servono Ci serve come classa In classa Mi potresti consigliare Un piatto di pasta Da mangiare per cena Sì Grazie mille Quella coi gamberi Se puoi Tutti quelli di tipo BP Target Naturalmente Ok Questo valore Produce Attenzione Attenzione Un vettore Oh no I vettori I vettori Sono una struttura dati Che sono una lista di target Ok Non ci servono singolarmente Ci serve Sapere quanti sono Quindi da qui Prendiamo una funzione Che si chiama length Che ci dà il valore La length Ok Questa length Ce l'abbiamo qua dentro Direttamente E Questa length Stampiamola Non c'è niente di male Nello stamp Ok Perché Devo ancora capire Questo selettore Come mai Mi deve Per i coglioni Sempre Perché Ok Perché Se c'è bisogno Di un cast Non lo trova direttamente Stampiamolo Ma Tengo un piccolo problem Che qua Questo deve andare qua E questo deve andare qua Ok Vediamo Vediamo se è giusto Se è 4 Dovrebbe venire scritto 4 lassù in alto 4 Eccolo qua Perfetto Quindi funziona Questa cosa è dunque inutile Adesso Abbiamo qua dentro Dal nodo verde Abbiamo il valore Creiamo una nuova variabile Che è il max score Che deve essere naturalmente Un int Quindi integer Lo mettiamo qua E lo dobbiamo settare Quindi Max score Finisce qua dentro Questo finisce qua Questo l'abbiamo già fatto prima Ok Max power È piuttosto semplice No Andiamo a prenderci Tutti gli attori Di tipo target Li contiamo Con length O meglio Ci viene restituito un array L'array Target array Vedete Ne prendiamo la lunghezza E la lunghezza La impostiamo in max score Questo max score È bello Bello allegro E ce lo teniamo qua Adesso Tanto per fare le cose più carine Quindi questo per il momento Lo lasciamo così Tanto per fare le cose più carine Anziché scrivere soltanto score Ok Da qua Ci prendiamo anche Il max score L'abbiamo appena creata Get max score E la mettiamo come Ulteriore campo all'interno dello score Possiamo fare add pin Piccoli E possiamo mettere qui Questo Quindi semplicemente Adesso Add pin ancora Scusate è sbagliato È così Piccolo Questo via Grazie Qua mettiamo Slash E Sarà la scritta score Adesso che l'abbiamo cambiata Ve la lascio qua Abbiamo fatto Abbiamo appeso ulteriori cose Ok Zero su quattro Bravissimi Giusto Quattro sappiamo che è giusto Perché l'abbiamo impostato Prendendo la lunghezza dell'array L'abbiamo stampato prima E vediamo se è vero Score zero All'inizio Ma appena ittiamo qualcosa Diventa uno su quattro Due su quattro Tre su quattro Ok Per impostarlo Questa cosa mi sa che non lo fa il gun Non lo fa il gun Per impostarlo Allora Fatemi un attimo riflettere Perché in effetti Qual è il problema Che non viene scritto zero su quattro Non viene scritto perché Ciò accade Soltanto Soltanto Quando Avviene uno sparo Ok Questa update score text Viene chiamata Soltanto qui No 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 Soltanto Vabbè quasi Cioè in realtà sì Perché da qui Viene questa E poi da qui Viene chiamata qua Ok Noi vorremmo avere Questo update Anche Anche Appena Viene Parte la partita Il tipo nel tutorial Non lo fa Ma io lo faccio Lo stesso Quindi Update Score Ci serve Prenderla Dal Ref We Che abbiamo Siamo fortunati Possiamo usarla qua Update score text Vediamo se funziona Secondo me sì Non vedo perché non dovrebbe Qui sto improvvisando E chat Perché comunque È Giusto seguire il tutorial Molto Bello Questo Questo fa schifo Sto cavo Si può fare più bello Tipo Tipo se io Da qua Ciao Encone Oggi non è il mio Compleanno Quindi no problem Non ti sei dimenticato Di farmi gli auguri Facedenkman Grazie Vance Non auguri Allora O Quindi Adesso Questa roba Dovrebbe funzionare E partire Direttamente Con zero Su Il tipo del tutorial Non lo fa O se lo fa Non lo fa adesso Ma io lo faccio Adesso Che mi va Che bello Che soddisfazione Ok Funziona Benissimo Andiamo avanti Andiamo avanti E Ora che abbiamo Correttamente scritto Lo score Dobbiamo verificare qualcosa Quando lo Incrementiamo Ok Quando lo incrementiamo Dobbiamo verificare Che Il max score Non sia già stato raggiunto Altrimenti Non Possiamo fare Il più più Ok Quindi Con un branch if Controllare Al più più Se lo score Uguale max E in caso Chiudere il gioco Ok E andare alla Windscreen Allora Quindi Quando avviene Il più più Quindi siamo qua Dobbiamo Verificare Se Current score Che è Il risultato Che ci esce da qua È uguale A max score Quindi in teoria L'ho fatto Blind Così Poi ci serve Un nodo Ugua Ah voi Ah ok Io vedo uno schermo Una cosa nera Ma voi lo vedete Quindi Bello Dobbiamo verificare Se questi due Sono uguali Non invertiamoli Non invertire mai I flussi Sono uguali Se Sono uguali Questo ritorna True Quindi Ok Qua lui lo fa In un altro modo Lo fa Nell'update score Ah giusto 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 Ci sta Ci sta Ok Beh È lievemente diverso Ovviamente Come nella programmazione Si possono fare Le cose in tanti modi Ma come lo fa qua Mi piace Allora Facciamola anche Un po' più semplice Per voi Prendiamo il current score E il max score Ok Li mettiamo In un più più Li mettiamo In un più più Sì vabbè In un uguale Uguale E Questo qui Deve finire In un branch E Quindi sicuramente Dobbiamo aggiornare Lo score text Which makes sense No Poi se Abbiamo raggiunto La fine Ok Qui Dobbiamo dire Gioco finito Quindi facciamo Print String E diciamo Gioco finito Altrimenti Niente Però Tanto per essere tranquilli Diciamo Print String Gioco Non finito Questa cosa La sto facendo Per voi Questa cosa La sto facendo Per voi Chat Lo faccio Per voi Perché Per me È abbastanza chiaro Ma magari Per chi è meno Adepto Alla programmazione Ci può stare Allora Vedete Adesso Che cosa succede Ogni volta Che io colpisco Ok Ogni volta Che io colpisco Viene lanciata Questa funzione Non lo sapete A questo punto Perché Perché il target Parte questo evento Di gioco Arriva l'increment Scorre Siamo qua Viene incrementato Viene aggiornata La scritta In alto a sinistra E poi Facciamo questo nuovo controllo Va bene Quindi se io sono qua Gioco non finito Gioco non finito Gioco non finito Gioco finito Ovviamente Spero sia ovvio Ma potete farli in ordine Che volete Gioco non finito Gioco non finito Gioco finito Perfetto Quindi funziona Il nostro if Che abbiamo scritto Ne siamo rallegrati Ne siamo rallegrati E non resta Che anziché Quindi gioco non finito Niente Qui lanciamo Un nuovo UI Ok Quindi veniamo di qua E creiamo un nuovo Aspettate perché qua Oh no 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 È successa una cosa terribile Chat Io non vedo più Niente Non vedo più niente Non so cosa gli è capitato Oh Ok speriamo Le finestre contestuali Non le vedo più Praticamente E vabbè Comunque Gioco finito Esatto Allora Abbiamo bisogno Nel content drawer Di creare Niente Vabbè Lo guarderò da qua Per questa ora Dobbiamo creare una nuova user interface Widget blueprint User widget E la chiamiamo blueprint Game Over UI Ok Ok La apriamo Blueprint Game Over UI Grazie No punto schiamativo corso Non c'entra niente con quello che c'è adesso Grazie main boss Grazie Ale per i tre Vi ricordo che con punto schiamativo prime potete supportare questo canale Di divulgazione E Qua dentro abbiamo la nostra nuova widget Anche qua andiamo a fare un bel canvas Come prima Assicurandoci che sia giusto Sì E questo canvas In questo canvas Comporremo la nostra UI Di fine Partita Quindi Per prima cosa Mettiamo un bel testo Più grosso Font Mettiamo Una cosa di più grande Così Lo ancoriamo al centro Così Più o meno E poi Come testo ci mettiamo Divulgazione non finita Ehm You lost Le Mao Ok Divulgazione non finita Dottor Assolutamente no Grazie per i sette mesi Bene You lost Le Mao Poi Vogliamo anche Metterci un piccolo Pulsante Per fare il Restart game Live super interessante Encone Complimenti Grazie piccolo Grazie El Cice Tooltip non ci interessa Style Ancora anche questo al centro Si può sapere dove si scrive Nei pulsanti Size to come Search Text Tooltip text No vorrei scriverci dentro io Forse ci vuole un Testo dentro Metti un text block sopra Che schifo Va bene ok C'hai ragione Mettiamo questo bel pulsantone Qua Circa centrato E poi Un Text sopra E ci scriviamo Restart Ok Quindi a questo punto Abbiamo creato la nostra Interfaccia grafica Di fine partita Ok Non resta che Qua Non servono questi Non resta che Metterla qua dentro Giusto Quindi Anziché fare una Print screen Noi vogliamo Che Dal true Parta La stessa cosa Che abbiamo fatto prima Quindi dobbiamo mettere Un Create We Create Come l'abbiamo chiamata BP No Create Ahiala Puttana Non vedo niente C'ho un bacco Un bacco qua In corso Create 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 Widget Vediamo se funziona Sì Create widget Di tipo BP game over Ok E poi dobbiamo Come sempre Far vedere anche questo Quindi Add to viewport Ok Naturalmente Così Così Ok Quindi Se sono uguali Facciamo partire Questa cosa qua Per il momento Poi ovviamente Dobbiamo fare altre cose Però Per il momento Vediamo se funziona Siamo qua Uno Due Tre Voilà 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 Così perdi Anche se vinci Sì In effetti Diciamo E il game over E basta E il game over E basta Non è se hai perso O hai vinto Ho sbagliato io C'avete ragione Perché quella roba Poi viene dopo Ho spoilerato Ho spoilerato Quindi avete ragione Scriviamo semplicemente Game over Grazie Ma che belle parole Empida Ok Non preoccupiamoci Se abbiamo vinto O perso Diciamo semplicemente Game over Ok Tra l'altro Qua possiamo mettere Anche un blur Blur Sei puntato bro Blur 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 Come si mette Ah si Era il contatto Dovevo scrivere You win Non you lose Le mau Alaba Sai come mettere Un Un piccolo blur Perché qua Non lo vedo Forse devo mettere Un canvas Sul testo No su tutto Forse un Blur qua Incredibile 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 Abilità Di improvvisazione Piccolo Voilà Non serve Che sia preciso Blur E poi questo qua Gli diamo Come blurring Ok That's Lo mettiamo qua Questo è come Photoshop Chat Quindi Non è difficile Ok Vediamo così com'è Casereccio Eh Carino Carino Ok A questo punto Dobbiamo fare anche delle altre cose Ovviamente Perché C'è Accade una roba un pochettino strano Strana Che se facciamo così Cioè Posso giocare Non Posso ancora fare tutto Ovviamente questo è Inaccettabile Perciò Di seguito Alla Fine del gioco Qua Andiamo anche A dire Guarda Set Input Mod UI Only Questo è un nodo Che Dice Guarda Puoi C'è soltanto La UI Non puoi più interagire Ok E come widget Scelto Mettiamo Quello Della win Quindi Quello in focus E quello Della win Qua E poi Il player controller Ok Perché altrimenti Possiamo ancora Controllare il giocatore Facciamo Get player controller E Questo qui Lo infiliamo qua dentro Ipotizzo Sì E Vogliamo anche avere il cursore Ok Quindi Per avere il cursore Dobbiamo dire che Questo qui Ci mettiamo una set Set More Mouse Cursor Widget No 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 Questo è sbagliato Scusate E qua Non so Non so di che tipo sia Non vi andrò a mentire Flussi invertiti C'è ragione Ma non posso farci niente Sono così Per forza E Show mouse cursor Perché qua c'ho una set Show mouse Scusate C'ho Una set Ma non so come si fa Enable mouse No Mi sa che dobbiamo andare a vedere sulla documentazione Perché non lo trovo così al volo Mi piace questo format Io sono un android dev Ah va bene Ah va bene va bene Ci sta android Grazie pizza Grazie had Esci da player controller Hai ragione Voglio 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 So smart So smart Set Mouse Cursor widget Mouse Po Non lo leggo Che cazzo è questo Mouse position No Stiamo andando un po' a casaccio Set Non è neanche una funzione È un set e basta Vediamo un attimo Input Player controller Cast Set Add È una roba strana che deve uscire il chat Non so benissimo come Ah Potrebbe essere uno di questi Su questi Sugli attori Mouse Enable click events Potrebbe essere Mouse over events Forse così Eh Sì esatto esatto Però è mouse cursor Ci siamo eh Ci siamo Se cerco qua Mouse cursor Ah ma vaffa No Questo è il widget Non voglio il widget Set Show mouse Questo Get set Questo qua Yes L'abbiamo trovato Ok Ok Quindi Qui E poi ovviamente Deve essere passato qua Se no non ha il juicy Il juicy juice Ok Allora adesso Che abbiamo fatto questo lavoro Estendiamo qua Adesso che abbiamo fatto questo bel lavorio Oh Ma non voglio metterci il commento Adesso che abbiamo fatto questo bel lavoretto Incrementa lo score Lancia aggiornamento a lui E in caso di Max score raggiunto Va alla schermata finale Disabilitando i comandi E abilitando il mouse Questo è il commento più Più completo che abbiamo scritto nella mia vita Vediamo un pochettino come funziona Dovrebbe essere tutto già funzionante Allora One Two Three Four Perfetto Non posso come vedete muovere più Non posso sparare E ho il mio bel mouse E quindi avrò l'opportunità di cliccare il magic button C'è in realtà Credo ancora un piccolo baco Che è questo Ma lo fixeremo più tardi Pronto Aspettate Lei Ok Che è questo Se io sto Muovendomi Contro Che cazzo sia successo Se OBS Non lo so Poi lo capiremo Perché lagga così Comunque Adesso Dobbiamo andare ad aggiungere Qualche funzione di tasto Tasto no? Beh è piuttosto semplice Andiamo nella nostra game over Clicchiamo sul tasto E qui in fondo No Perché non è il tasto Qui in fondo diciamo On clicked Ah non lo vedete Voi c'è la mia webcam On click On click Quindi Diciamo che A on click Andiamo ad aggiungere qua Cus Ok Eccoci qua Grazie Continua così Eh continuerò Perché mi sto divertendo un mondo Allora Innanzitutto rinominiamolo Restart Button Perché fa schifo Se no E Astutamente Dovrebbe già avermi rinominato Eccolo qua Quando il restart button Quindi questo qui è l'evento Che viene chiamato Siamo dentro il blueprint Della schermata finale Quando il restart button Viene premuto Dobbiamo far ripartire il livello E questo è molto semplice Perché Open level By object reference E scegliamo come livello Naturalmente Il first person example map Che è quello L'unico che abbiamo Considerate che Questa cosa che stiamo facendo In realtà non è un gioco Ma è un livello Ognuno di questi Un gioco può avere più livelli Ok Quindi Vediamo se adesso funziona Eccoci Ups Ups Non funziona più È rotto È rotto chat Ma certo che è rotto Perché Abbiamo disabilitato Tutte Tutto Ma è un programma di fare Un bel serverino Scritto in un linguaggio Di programmazione moderno Go Rust Colen Elixir Così si spiega Anche funge l'internet Ma non posso fare guide di tutto Damiano Però potrebbe essere I don't know Intanto cogito Grazie mille per i tre mesi Naturalmente Naturalmente Ci si è spaccato tutto Ci si è sciapato tutto quanto Allora Grazie Ci si è sciapato tutto tanto Beh Ovviamente Quando il gioco parte Quindi qua Hai pensato al nome del gioco? Non ho pensato al nome del gioco Perché fa schifo Qua Siamo costretti a Ri Far partire le cose Ri O comunque in generale Inizializzarle Cosa che non facciamo prima Quindi andiamo un pochettino indietro qui Gentilissimo Era proprio quello che volevo fare Che puttana Vieni qua Ok All'event begin Dobbiamo per prima cosa dire Set input mod game only Quindi dobbiamo impostare La modalità game only Che è l'alternativa Cioè che toglie la UI only Poi prendiamo Get player control Così Bang 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 E gliele ridiamo correttamente E poi Ehm Basta In teoria Rirridiamo i controlli Il mouse Quelli originali Quindi dovrebbe già funzionare Vediamo se è vero Compile Play C'è il piccolo bug Ma eccoci Bella e Funziona Si avvicina alla sessione Avremmo bisogno Di un po' di motivazione Eh ma non so più cosa dire Galli Grazie per i due mesi Ehm Faremo i pacchetti epici Non lo so C'è il piccolo Non c'è su steam No decisamente non c'è Perfetto Quindi ci siamo Ehm Ehm Abbiamo Abbiamo fatto il nostro End widget Abbiamo il nostro score E adesso È tempo di rendere Il gioco più complicato Ora fixa il bug Allora il bug Lui lo fixa molto dopo Nel tutorial Ma in effetti Noi lo fixiamo Subito Devo solo andare a cercare Dove l'avevo messo No questo è il Torque In Radiant Eccoci qua Si lo fixiamo subito Facciamo che Oltre alle cose Che già gli abbiamo detto Qua Gli diamo anche Un Set Input Mod only Gli diamo anche Prima di Dire del mouse Mettiamo Un Set Ignore Move Input Se sapessi scrivere Ignore Oh Non c'è Fuck me Perché Set Mod only Mmm Mmm Proviamo così Come vedete Questa è la parte Ovviamente più difficile Perché se uno non sa Come si chiamano le cose Non le può trovare No Fuck Non c'è più Deve Deve averlo cambiato Oppure posso trovarlo da qua Aspettate Aha Eccoci Quindi Praticamente Dobbiamo dargli Che New Move Input Che è nulla Perché non glielo stiamo dando E poi lo colleghiamo qua così Voilà Quindi Non dovete avere ansia Questo mi piace di più Fatto così Questo non mi piace Fatto così E questo fa qua Ok In sostanza abbiamo aggiunto Un blocco Che Gli dà come Move Input Un nuovo Un nuovo input Ok If true Move Input Is ignored No non è vero Semplicemente Quello che c'è scritto qua Quindi noi lo mettiamo a true E siamo a posto Vediamo se adesso funziona Il piccolo bug L'abbiamo fixato oppure no Tengo premuto Mentre sparo Voilà Fixato Cosa c'è a laba Dimmi tutto Hai cancellato un link Player controller Ce lo dice anche qua Il dottore Grazie mille Voilà Fatto Grazie Grazie mille Ragazzi L'easter egg Lo mettiamo nel gioco finale Che farò Tra un po' Cioè io voglio fare due Lo ridico che adesso c'è più gente Voglio fare due giochi Il primo è questo Per imparare a fare le blueprint Insieme a voi Il secondo è uno dove Mettiamo la mappa Scolpiamo la mappa Perché qua io non vi ho fatto vedere niente Chat ma qua Non so dove Ma c'è Ma c'è C'è tutta la mappa da disegnare Ok Quindi quello lo facciamo Ma quello lo facciamo poi Ed è il secondo Select mod Landscape Ecco vedete qua Scoop Non c'è il landscape Ok vabbè insomma Non mi metto a fare queste cose Che spacco tutto Però Qua succede poi Della roba brutta Science doesn't care Grazie per i 17 Quindi Ma quello lo vediamo Come secondo Come terzo Farò un gioco io Da zero Stupidissimo Per iniziare E lì possiamo mettere Gli easter egg Degli audio La faccia di panetti Insomma Non lo so Va bene Freddy In caso Se avrò bisogno Lo dirò E potete mandarmi anche Delle vostre cose Che cercherò di mettere nel gioco E poi vorrei integrarlo Con la chat di Twitch Tipo ad esempio Immaginate Un mondo Dove vengono spawnati Dei personaggi Dove ognuno di voi È un personaggio Alaba Sì parliamoci in privato Danilo Grazie per i 9 Comunque andiamo avanti Chat Perché Adesso Che abbiamo fissato Il Il gioco Abbiamo fissato il bug Scusate Dobbiamo aggiungere Un Cuntdown timer Sì Dobbiamo fissare Il countdown timer Non so se di oggi Riusciremo a finire Cioè sicuramente Non riusciremo a finire Però Gabri grazie per il prime Luca carissimo Grazie per i 5 Allora Faccio tutto da solo Luca grazie per i 5 Scusa il disturbo No Nessun disturbo Allora qui Non siamo ancora paghi Di quello che succede qui Ok Dobbiamo anche far partire il timer Quando parte la partita Ok Infatti vedete che questo qua È il più grosso Che fa un sacco di cose Perciò Iniziamo da qua Diciamo Set timer By event Il nodo set timer By event Ok Semplicemente Prende un evento Ok E lo fa O meglio C'è un timer che scorre Per i cazzi suoi Ogni zero Qua Questi sono i tick Ok Del tempo Possiamo mettere Un secondo Per essere più ovvi E ogni secondo Fa partire un evento Questo evento E questo qua Ok Che chiamiamo Decrement Eh sì vabbè Mettiamo Add Delegate No merda Scusami Custom Ah ok Questo lo chiamiamo Decrement Count Diciamo Facciamo Mi fa schifo Questo nome Time È sempre bello Supportare contenuti Interessanti Time decrement Posso rinomir Oh merda Dovete capire Che ogni volta Che io Ogni finestra Che voi vedete Io vedo Un quadrato nero Sempre Non riesco a leggere niente Mister Grazie per i 5 mesi Time decrement È optimale Ok È optimale È giusto per vedere Che funziona Lanciamo un print String E String Non lo faceva Il tipo Proviamo a fare così Non si può Directions are not Ah no Perché dovrei infilarglielo Io il time Return value Che cos'è Time handler structure Oh Shite What if What if Da questo Io Tipo Vabbè Lo vediamo Poi Lo vediamo Poi Questo evento Viene chiamato Ogni tick Ok La stringa Diciamo Un secondo È passato Allarghiamo un po' Il commento Quindi Lo abbiamo appiccicato All'inizio del gioco Ok Quando inizia il gioco Questo nodo Fa scattare Un secondo E lancia Questo evento Che al momento Non fa niente Stampa soltanto Ok Però Giusto per vedere Se sta funzionando Oppure no Un secondo è passato Ovviamente Eeeh This is weird Credo di essermi Perso qualcosa Nel ragionamento Sì perché Ma non lo so Dovrebbe partire In teoria How long To wait Before Excuse the delegate In seconds Dovrebbe funzionare Dovrebbe Scrivere Ogni secondo Ah non è in loop Mi sa No Non deve louppare Hai ragione Invece Deve louppare Deve louppare Ma non nel Non nel programma finale Ok ok Avete ragione Avete ragione Vedete Eccolo qua E poi in teoria Ogni due Se ne toglie uno Quindi adesso Rimane sempre così Ma stanno arrivando Si vede Il secondino In cui si aggiorna Comunque Giusto Ottima deduzione Chat Ma il looping Non ci serve Perché Noi dobbiamo creare Una variabile Che contiene Il tempo Il tempo Totale di gioco Ok Quindi lo chiameremo Timer Ok Timer È un intero Ed è Compiliamo Di default Per il momento Lo lasciamo bello ampio Mettiamo 50 secondi Ok Questo intero Deve essere decrementato E infatti è Time Infatti è meglio Timer decrement Secondo me Scusate Renames Timer decrement Ok Quindi Qua lo vogliamo Ghettare Dobbiamo ridurre il timer Dentro la funzione Timer decrement Quindi vogliamo fare Meno meno Direi a occhio Si infatti Meno meno Così come più più È la stessa cosa Naturalmente Quindi questo evento Da vita Almeno meno Che decrementa Il timer E poi Lo possiamo Stampare Adesso stampiamo Il timer Quindi non abbiamo più Bisogno del loop No Perché Mo ci ragiono Ma Ok No in realtà Mi sa che ci vuole Ci vuole Ci vuole Se no non funziona Quindi ok Makes sense Adesso Abbiamo Le nostre Belle String No Come mai Sto seguendo Meno il tutorial Sto cercando di improvvisare di più Che è utile Ah perché non gli ho dato Il juice Non gli ho dato il juice Quindi ovviamente non funziona Ok Sempre contenuti Eccolo Guardate Vedete È piccolino Ma si legge Ciao Rise Winfla Grazie per i 5 Si potrà giocare Una beta O simile No ma questo gioco È solo per imparare Delle cose Porca troia Clicco troppo in fretta Come vedete Riparte sempre da 50 Quindi non è male Non è male Domenico Grazie per i 10 mesi Faro Grazie per i 9 Gabbiano Zoppo Purtroppo Grazie per i 15 Bisogna supportare Gli streame emergenti Ma ce li mettiamo I rettami Eh Eh Dai De li meritate Sì Io me li merito Me li merito Ok Adesso che abbiamo decrementato E l'abbiamo stampato Dobbiamo avere Naturalmente Anche un testo Decente Perché non possiamo Tenerlo là sopra Schifoso il timer No Ma abbiamo già La nostra Ui Ui Siu Perfetta La mettiamo qua a destra Ok Quindi prendiamo un bel Text Lo mettiamo qua di fianco Cerchiamo di allinearlo Ma non ci riuscirò Quindi soffrirò Per questo Allora Questo qua quant'è? C'ho il position Ehm Questo quant'è Di dimensioni di text 41 Quindi ci mettiamo Anche qua 41 Ci mettiamo Come Ancorizziamo Sulla destra L'anchor serve Per le diverse Risoluzioni Non vi preoccupate Mettiamo come Position Y 41 No Quanto è che è? 84 Oh 84 Ti ho detto Ok Così sono allineati E poi come testo Ci mettiamo Time Due punti Anche se Tanto poi lo sovrascriviamo subito Credo Bene Quindi abbiamo preparato il posto Ovviamente anche questo qua dovrà esserci scritto sopra Quindi questo qua lo chiamiamo Timer text Ok Insomma Più o meno quello che abbiamo fatto prima Ma Bisogna collegarli nei punti giusti Quindi Nella Wii Aggiungere il timer a schermo Metterlo nel game widget E ancorarlo Metterlo come var Dalla spunta Perfetto L'ho fatto senza saperlo Ora creare un evento di update Nel countdown Nella BP del widget Ok Quindi Il widget Deve avere anche un evento Così come c'è l'update Questo qui chiamiamo Update Timer Text Sono stupido Custom event Update Timer text Ok Questo evento Andrà ad aggiornare Ad aggiornare Il nostro bellissimo Tempo Quindi Praticamente è una copia identica di questo Solo che cambiano i contenuti Quindi Lo rifacciamo Prendiamo il riferimento al gm Dove sta la nostra Variabile La prendiamo Get Com'è che si chiamava Timer Tipo Get timer Ok Quindi abbiamo il nostro timer Che viene decrementato di là Easy peasy Lemon squeezy Questo dovrà essere Appeso Perché? Perché mi devi fare male? Perché non c'è il cast Append No 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 Questo è l'append delle liste Append text Tipo Append 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 Di tipo stringa Questo va qua Questo va Time Grazie Gabriele Grazie Simo Per il prime Perfetto Quindi questi li mettiamo così A me piacciono Mi piace metterli così Uno e time Due punti Spazio Mi raccomando E questo valore Deve finire naturalmente Nel timer text Che abbiamo già qua E vedete che è proprio speculare Identicamente speculare Guardate Stiamo riproducendo La stessa identica cosa Solo che non c'è Lo slash qua Ma è uguale Quindi questo qui deve andare a To text No ce lo fa da solo Non ci serve Perché a questo dobbiamo mettere Il set text Text Questo qua In text Ci mettiamo questo Così 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 Gli diamo il juice E l'abbiamo fatto Finito Vedete è molto semplice Una volta che avete capito Cosa state facendo Diamo un commento Questo qui diciamo Aggiorna il widget Tra parentesi Time Con Il timer corrente Perfetto Nice Salviamo Compiliamo E lo vediamo direttamente in azione Ok Abbiamo lo stesso problema di prima Che finché No What the fuck Questo è sbagliato Piccolo Piccolo That's interesting Finalmente tornato in Italia E con questo fuso orario Posso tornare a guardarti In Sud America Era un po' difficile Ah sono un coglione Certo Se non chiamo La fottuta funzione Non ho chiamato Ovviamente Non ho chiamato La funzione Ma quando uno è un coglione Patentato Quindi non resta che chiamare Update Timer Ma Non possiamo prenderla da qua Niente Vedete che bisogna proprio impararsi le cose man mano Dalla refui Lo prendiamo Update Timer Timer Gli diamo il juice Mi raccomando Se no non va avanti E adesso siamo a posto Vi faccio notare che questa roba qua È identica a quella che facciamo qua No? Credo È qua Sì Lo vedete? È la stessa identica struttura Qui viene incrementato lo score Qui viene diminuito il timer Pretty obvious Le due funzioni sono uguali Quelle che vengono chiamate Update score text E update timer text La differenza è chi chiama l'evento Qui l'evento è chiamato da Dalla collisione col target Mentre qui viene chiamato da questo Luppatore Che ogni tick Riduce il tempo Vediamo Funziona Funziona Incredibilmente funziona Eh? Bang 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 Ora Naturalmente C'è il problema Per cui All'inizio Non riesco quasi mai A guardarti il weekend Ma ti supporto sempre Minore di 3 Ci mette un attimino A lanciarlo Grazie mille Termo Grazie per i 6 Grazie per il supporto Grazie vice Sì In Sud America è un po' difficile E grazie Gabriele per i 7 E come vedete Come vedete Il timer arriva dopo un po' Arriva dopo un secondo Non so bene perché Come mai fai così piccolo? Bu Non so Perché L'update Cortex No 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 Il juice ce l'ha Forse è semplicemente il tempo Nel generare tutte queste cose qua Chiamare l'evento update timer Prima del lupatore Perché Ah no è giusto Perché fa passare Forse c'è qua Oh Vedete che è 0 Perché secondo me L'evento parte Ogni secondo Quindi passa un secondo E quello parte Passa un secondo E quello parte Passa un secondo E quello parte Capito? Quindi Se Io scrivo così Semplicemente Gli do il tempo In millisecondi Anziché in secondi Auguri amore Questa è un abbastanza Una 200 IQ move Solo che Ovviamente No Allora Ehm Timer No però questo In secondi Quindi dovrei dargli Ovviamente anche questo qua In millisecondi Quindi anziché Devo dargli 50.000 Se gli do anche questo In mille secondi In teoria funziona Ok Vedete Così È un piccolo trick È un piccolo trick Però Simo Grazie per i quattro mesi In alternativa Si può chiamare Il time decrement Da un'altra parte Subito O meglio O meglio Scusate L'update Posso chiamarla qua Così come facevo Qui in realtà L'update Cortex Lo chiamo anche qua Volendo Volendo Per inizializzare Si Questa soluzione Questa soluzione Devo dire Che mi sembrava Abbastanza Da 2000 Eq Non andrò a mentirvi Però va bene Facciamolo più pulito Questa Francamente Mi sembrava Da 2000 Eq Non vi voglio mentire Però Semplicemente Qui Prendiamo Un'altra Piccolo Perché mi devi fare Questo Chiamiamo Update Timer text Ok Questo qua Ci sta così Ma posso Subcommentare Ho subcommentato Chat Ok Ho sublimato Nel subcommentare Perfetto Dai Così l'abbiamo Comunque fixato Bello 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 Mi sto divertendo Un mondo Ecco qua Ora C'è giusto Un piccolo problema Che non si vede Perché ho Blurrato troppo Quindi Devo andare In UI Eh Ah no Scusate Quello finale Game over UI Designere Canvas Black Bebebebebebebebebebebe Mettiamo un po' di meno Di blur Perché sennò Non riesco a farvi vedere Questa cosa importante Se faccio play Vedete che il tempo Continua a scorrere And this is a problem Ovviamente Il tempo Continua a scorrere And this is A bad problem No Perché non ha senso Il tempo Ho finito Ok Ehm Quindi Allora Il tizio qua Fa Un po' Una Ci sono due problemi Allora Il primo È che Ci sto Scusate Questa è una parte Un po' difficile Questa è una parte Un po' difficile Prima di tutto Cosa succede Che quando il tempo Finisce Adesso lo metto A 5 secondi Perché altrimenti Ci mettiamo un anno Quando il tempo Finisce Se non abbiamo vinto Non viene scritto Un cazzo Dobbiamo dire Che abbiamo perso Ok Prima questione Vedete Non succede Non succede proprio Niente Cioè Questo è un piccolo problema Ehm Quindi Naturalmente Tocca fa Qualcunso Dobbiamo Verificare Che se Il tempo E qua Adesso qua Arriva una parte Un po' Cioè Il tipo È bravo Ovviamente Con Unreal Sa un botto Di cose Ma secondo me Come programmatore Fa un po' Cagare Devo subito Fare Il weird flex Allora Ehm Quindi secondo me La soluzione che fa lui Fa schifo al cazzo Ah io non vorrei Nel primo tutorial Che guardo Già correggere Una delle autorità massime Di Unreal Però Mi vedo costretto Mi vedo costretto Perché secondo me La soluzione che implementa lui Fa cagare Ok Quindi Non pago Della già Normale difficoltà Che comunque Come vedete Non è facile Implementerò la mia soluzione E vediamo se funziona Ok Proviamo a farla insieme È un po' complicato Cioè È complicato perché non seguo più Passo passo Questa cosa l'ho solo pensata E non l'ho mai fatto Ok Allora lui Ad esempio Dice Mette un controllo qua E dice Se è maggiore di Maggiore uguale a zero Non Cioè decrementalo Se no No Io personalmente Farei un'altra cosa Ok Metterei un check Se il timer Diventa Minore Diventa uguale a zero Ok Faccio Cambio il messaggio Di Cambio il messaggio Di Della cosa Ve lo faccio vedere direttamente Ok Mettiamo un If Un uguale uguale Scusate Aritmetico Non so se è giusto questo Sì Se timer È uguale uguale a zero Ok Non prima ovviamente Anzi no Dobbiamo decrementarlo correttamente Se è uguale uguale a zero Ok Allora Se questo è vero Dobbiamo Fare delle cose E non dobbiamo più decrementare Ok A questo punto sto letteralmente programmando Da qua Non dobbiamo più decrementarlo Quindi se è vero Ma l'else non ce l'ho qua Dovrei mettere un if Scusate Sto proprio andando di Di mio Sì Perché se Eh la condizione è questa È giusto Allora Se è vero Se è falso Andiamo avanti Normale Ok Perché se è falso Che è uguale Significa che è maggiore No Se invece Se invece È vero Ma sicuramente c'è un motivo Per cui l'altro l'ha fatto In quell'altro modo là Lo scopriremo soltanto vivendo Quindi In realtà Voglio metterci un not Qua Allora Se non è uguale a zero Vai avanti Se è Se non è Non uguale a zero Cioè è uguale a zero Entriamo in questo qua Quindi Proviamo così Print String Timer Finito Ok Testiamo Testiamo chat Sto programmando Ormai sono out of the tutorial I'm a big boy Grazie L E grazie fruttano il sultano Per i tredici Grazie Dante per il prime Ormai sono A big boy A big boy Vediamo se funziona What the fuck Ah ma certo 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 No Perché Why am I a gonzo Scusate Scusami eh Ah certo Perché la decrementazio La decrementazio Va fatta qua Per Diana La decrementazio Va fatta solo Eh certo 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 Of course Of course Of course I'm so stupid Beh I cavi già non sono bellissimi Però Perché praticamente Devo controllare Così Così Perfetto Già mi manca Programmare normalmente Ve lo dico Vediamo Minore uguale No 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 Minore uguale È sbagliato Timer finito Ma perché Allora Fermi tutti Ah ma C'è un cavo Che non Deve esserci Fermi tutti Fermi tutti Ok È così che deve essere Perché Arriviamo qua Se il timer Ok Se il timer È Diverso da zero Quindi È not Uguale a zero Andiamo avanti E decrementiamo Se è uguale a zero Andiamo da un'altra parte E non decrementiamo Da questo è giusto Cazzo Cazzo Come on Come on baby Deve rimanere zero E dirmi Gioco finito Boom 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 Ok Ora la questione qual è Che Che Se è falso Dobbiamo Fare In teoria Vogliamo lanciare Eeeh Il problema Ah ma c'è Ho capito Perché quel bastardo Lo fa in quel modo Perché in realtà Noi Non Interrompiamo Mai Non Interrompiamo Mai Il loop Perché vi spiego Adesso La questione Qui è Ok Se Eeeh Se E' falso Vado in schermata finale No Questa sarebbe l'idea Ovvia Ma c'è un piccolo problema Che Questo bastardo Continuerà ad arrivare Ok Quindi Esatto Continua Continua Buonasera E Quindi Grazie mille Eliez Perfetto Eeeh Quindi in realtà Ci stava la soluzione Che faceva lui Però Non è un problema Perché Minchia qua Sto veramente Andando completamente Fuori dal tutorial Le chat Ok Allora Facciamo così Creiamo una variabile Che si chiama Mi arrischio Che si chiama Eeeh Oh shit Me ne servono due Grazie Grazie per il doppio ringraziamento Grazie per la doppia sub Me ne servirebbero due Me ne servirebbero due Perché mi serve uno Per sapere se il gioco è finito E uno per sapere se ho vinto Perché se vengo qua Di sicuro Is lost Il tipo non sa Programmare No Ma perché C'è una meccanica Che non avevo considerato In effetti Che è questa Ma comunque Secondo me Si può risolvere In maniera Interessante Fatemi un attimo Riflettere Plixblocks Allora Se Eeeh Allora posso fare così Il Questo Il timer È zero Quando è zero Non lo decrementiamo più Quindi Oltre che False Possiamo dire semplicemente Che Ah certo 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 Possiamo settare una variabile That That should be Ok Sì 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 Funziona Ok Settiamo una variabile Booleana Settiamo una variabile Booleana Che dice Eeeh Eeeh Time Che dice No che search Che dice Time over Ok Time over Quindi Se Eeeh E' falso Get time No set time over Ok Se è falso Settiamo Time over A True Perché è finito Ok Ok E questo Se viene eseguito Più volte Non è un problema Dopodiché Se Se Time over E' vero No Ok 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 Ce l'ho Ce l'ho Perché Alla prima volta Yeah Ok ok Devo cambiare l'ordine Devo fare così Allora qua Parte la schermata Di Di Quel che l'è Che si fa Come Dove cazzo è Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Non si è meno Accorto che Looping E' collegabile Ah Avete ragione Quindi se è falso Basta che dica Looping Tipo così Boolean Devo impostare Devo cambiare Il booleano Ma No ma Aspettate La soluzione Che ho qua Non era male Waste Grazie per i due mesi Uso la variabile Che hai creato Time over Tipo qua Disabi Ok setto Time over Ok E disabilito Il looping Però così diventa true Dovrebbe diventare falso Quindi la variabile Dove essere Still time O al contrario Devo settarla All'inverso Al not Però io avevo Un'altra soluzione In testa Perché in realtà Avevo un'altra soluzione In testa Fammi provare la mia Un attimo Perché Quando entriamo qui Se Time over È falso Significa che È la prima volta Che ci entriamo Ok Siete d'accordo con me Perché È zero per la prima volta Time over è falso Quindi se Ciao Quando programmi Dovresti farlo più spesso Grazie mille piccolo Aspetta che sono focussato Poi ti ringrazio bene Se è falso Lo settiamo a true E E Facciamo vedere la nostra cosa Basta Quindi String È una soluzione Non è la più bella Che c'è di sicuro Vediamo Dovrebbe essere Venire scritto Solo una volta Vediamo un attimo Dovrebbe Oh fuck Ma che cazzo vuoi Non scende più Peglio di puta Ah no 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 Eh Eh Questa non è colpa mia Belle le live di programmazione Però vaffanculo Enk Over Una sola volta Bang Ok Ok Time over Perfetto L'abbiamo fatto Fa schifo ma l'abbiamo fatto Ora Dobbiamo dirgli Nella game over why Questo qui Lo chiamiamo Final message Che è una variabile Quindi Final message La vogliamo Ehm Impostare Con una set text Final message Sì Ehm Dove stavamo lavorando Stavamo lavorando Qua Quindi qui Dobbiamo prendere Riferimento Alla L'altra why E poi Ok Sì Ehm Allora la variabile Bula non serve a niente Certo che serve Serve per controllare Che la prima volta La prima volta Deve essere al contrario Quando viene switchata Ehm Quando viene switchata Eh Perché Se non controllo qua Come faccio a toglierla Deve essere invertita Capito Per l'u Per una Una sola volta Così viene eseguito Questa una sola volta Quindi Ci serve una nuova variabile Che contenga Chiamiamo ref Mi piace chiamare I riferimenti ref Ref Ehm Game over Why Che è Di tipo BP Game over Why Perché poi c'è un altro problema Ancora che non abbiamo visto E per Cioè Anche per quello che sono un po' Confuso Perché Questo La prendiamo Gli mettiamo Set Da questa Allora Dalla game over Why Dobbiamo poter prendere Get Ehm Come cazzo si chiama La paria La variabolo Come lo chiamiamo Final message Ok Quindi Prendiamo così Prendiamo il final message Gli diciamo Set text E gli diciamo Ok Il text E E poi gli diamo Il juice Vediamo Dovrebbe funzionare Secondo me Poi Che sicuramente Si poteva fare meglio Ma È anche la prima volta Che ci ragiono In questi termini Cioè Ok Che è uguale a programmare Ma Più o meno Ok Vediamo Access No Che cazzo vuoi Cosa vuoi Cosa mi son dimenticato Target È giusto Unlucky Unlucky Allora Scusami Set text In target And Final message Cosa vuoi Che palle Perché questo qua È un figlio di puttana Non inizializzato Senti Get Cosa cazzo Devo pregliare Si è Da qua Perché non è Questo qua è null Praticamente È null È null È null Ma A noi non interessa Perché Semplicemente Diciamo che L'asset di questa Se comunque Non è proprio facilissimo Da mantenere Sta roba Vi dirò Non è proprio La cosa più semplice Da mantenere Dal punto di vista Mentale Cioè Ovviamente Orca troia Cosa ho fatto Così Poi ci vuole Il juice Bella è la programmazione Visuale Però Come vedete Anche dalla Qualità Dei cavi Che sto facendo Cosa cazzo Programmazione Programmazione Visuale Cioè Dopo aver programmato Dieci anni Testuale Mi troverei un po' meglio Però ci sta Ci sta Ci sta Bisogna anche sfidarsi In delle cose Che non si conoscono Se no Fatemi vedere Una cosa Ok Ok Adesso dovrebbe funzionare Credo Vediamo Dai Non mi rompere i coglioni Cosa vuoi Allora Leggiamo Cosa dice Blueprint Runtime Error Accessed None Trying to Read Property Ref Game Eh te lo Ma non è null Perché non viene eseguita Questa parte qua Ancora Vero Perché se non incremento Lo score Mamma mia Perché questo qua Ovviamente Se non incremento Lo score Non funziona Quindi non posso Pigliarlo da qua Fanculo a me Allora 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 Stiamo molto calmi Mi serve Il final message E io lo prendo Dal ref game No Allora 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 Sì, posso crearlo A parte Questa parte di inizializzazione delle variabili Fa un po' cagare, perché praticamente E tutto Cioè nel codice Tu puoi organizzare i blocchi un po' meglio che qua Mentre qua sei costretto a partire Da sti nodi rossi Un po' strano Comunque, vabbè Create BP game over why Dovrebbe essere Widget, scusate Create widget Quindi lo creiamo Non lo facciamo vedere Ma lo creiamo BP game over why Ok Quindi Prima facciamo questo Poi ci settiamo la variabile No, questa è la get Non vi preoccupate che sto capendo Cosa sto facendo È solo una questione di Non è così banale Il return Lo mettiamo qua dentro Voilà Perfetto Vedete Vi spiego qual è il problema È che questi flow Sono Contestualmente Non c'entrano un cazzo Cioè questa parte Non c'entra niente con tutto il resto Però lo devo fare qua per forza Capito? Cioè avrei potuto farlo all'inizio Sì Init Ref Why Game over Why Che non è un modo molto bello Soprattutto perché qua stiamo facendo un gioco Stupido come la merda Quando poi le cose diventano complicati Capito Sì la O mi va in live Quando o mi va in live Io stacco Chat Quando o mi va in live Io stacco E vi mando da lui Però non è in live al momento Credo Sì bisogna usare le funzioni È in live Ah Sta facendo la intro Ah perfetto Perfetto Allora Se funziona questo Siamo a un punto perfetto Per finire Ti prego Dimmi che funziona Era una questione di null Che credo abbiamo risolto Adesso devo risolverlo in fretta Scusate Ref Compile Ah L'ho inizializzato Prendo il final message Gli metto il set Questo funzionava Quell'altro Print String Ciao Ok Perfetto Vediamo un attimo Se funziona così Compile Adesso devo anche Non posso pensare Con calma Ciao Lo scrive Perché non mi Maia la puttana Ma è ovvio Sono un coglione Sono un coglione Sono un coglione Se non genero La Ok ok Ce l'ho Ce l'ho Facilissimo Control x Così Fan culo a te Tu Vieni di qua Perché devo anche generarla E appenderla Capito Control v Buon compleanno Al caro Andrea Fan culo a te Fan culo a te Grazie mille Belazzi Grazie Shocker per i 5 Grazie Andrew per i 6 Così così Settiamo la variabile In realtà Non sono sicuro che ci serva Ma vabbè Tac 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 Oltre che crearla Dobbiamo appenderla A sto cazzo Quindi Com'è che era? Viewport Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Vai Ti prego Funziona Piccolo Piccolo No Errore di compilazione Mi sono dimenticato questo Penso Vada bene anche qua Vai Piccolo And Boom Let's go Let's go Allora C'è una cosa Ancora da fare E Però La vediamo una volta dopo Alcuni di voi Avranno notato che Non ho fatto queste cose qua E che questo pezzo Create BP E add to viewport È uguale a questo pezzo Infatti Creeremo Una funzione Custom Ok Dove Radunare Tutta questa roba E tutta questa roba E come parametro Gli daremo semplicemente Il testo Da mettere alla fine Di modo che Se è una vittoria O è una sconfitta Dobbiamo soltanto mettere Un semplice Parametro Ok Per ora Io lascio qua Anche perché abbiamo fatto Tre ore Di questa roba E siete 2200 Il che è straordinario Non me lo sarei mai E poi mai aspettato La prossima volta Che iniziamo Che è domani Farò un recap Di tutto quello che è successo Mettiamo questa nuova funzione E poi E poi Aggiungiamo la fisica Dei target Che quando spariamo Li fanno volare via Ok Boom Distantissimo E poi gli facciamo la grafica E per domani Così abbiamo finito Questo primo progetto Io vi ringrazio Saluto anche YouTube Buon Buon